l'importanza dei soldi e della vita comunque mi sa che c'è un po' di eco c'è eco? sì un pochettino sì mi risentro e vai giù ritmi maledetto buongiorno mi stavo autogestendo perché non mi fa vedere le impostazioni che è stronzo ah no perché sono imbecille provo un po' a parlare proviamo un attimo a parlare sentiamo se è cieco non cieco ma bello comunque come non te le salva manco per il cazzo le impostazioni no ma si vedo che il volume della cuffia è troppo alto provo a parlare? proviamo un attimo a parlare no comunque non mi sentivo cambiamo no non mi sento ok oh va bene prova 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 devo alzare la voce io un pochino mi sento ho dovuto mettere la sensibilità un po' alta ok ok comunque io non so perché ma l'ultima live che abbiamo fatto confessiamo i vostri peccati sono andato a vedere e c'è tipo ho 11 visualizzazioni a cazzo di cane totalmente ottimo tipo vedi le altre è piaciuto sì ma cioè ma perché le altre le vedi tutte zero una due no tutte una o zero va bene è piaciuto ti devo dire no ma buongiorno Cesare buongiorno ciao Cesare scusate ce la posso fare eccoci qua ciao mazzollare il giullare delle mazze mazzollare è successo un casino racconta racconta oggi Giulia sì Cesare oggi sono nella location camera da letto perché di là ci sono mia zia e mia mamma che stanno guardando Aneray che stavo guardando anch'io e ho dovuto perdere il finale solo per voi perché mi voglio troppo bene già però di là appunto guardano la tv e tutto quindi siamo qua è successo un casino che è successo mazzollare mazzollare mi piace come suono mazzollare mazzollare io oggi sono un po' rincogionito perché sto facendo degli orari che che sono stronzi semplicemente però boh sto twitch mi sta un po' uccidendo non vedo l'ora che sia settembre che potrò cambiare l'ora io sto cercando di riprendere un pochino un orario umano domenico infatti oggi mi sono svegliata a mezzogiorno brava brava faccio progressi e domani mi sveglierò alle 10 ciao dopo la live mi chiederò sono già in camera finisci la live e mi tuffo nel letto vestita direttamente sì sì con le cuffie non so magari lascio la live accesa mi vedete dormire questo che fa tanto il muso live mentre una ragazza dorme simp simp ma come siamo belle questa sera io ma no grazie ovviamente qui non accettiamo i simp qui parità dei sessi se dici bella lei devi dirlo anche a me sì simp lo piaccio ah però quando ti hanno detto che bei capelli non hai detto non accettiamo i simp dovete dirlo anche a lei no perché simp è solo per i maschi verso le donne ah ok allora questo è sessismo sì esattamente simp anche in contrario tipo mio amico ha iniziato ad insultare tutti e il mio migliore amico tipo gli ha cambiato il nome e la password sulla premo quello lo vuole denunciare tipo per furto di account non faranno mai un cazzo una volta mi hanno mi hanno gabbato 130 euro mi hanno detto ah sì ti chiameranno per andare a testimoniare però probabilmente non li rivedrai mai già che mi parti con intanto non li rivedrai mai dico vabbè vediamo al massimo sarò io a rifiutare di andare in culonia che non c'era né tre né nulla per andare a testimoniare nulla non mi hanno mai chiamato oggi molte persone mi hanno detto che sembro un vecchio non sei solo tu perché sembro una vecchia no oggi molte persone mi hanno detto a Cesare ah ok ah perché io dicevo del 67 vabbè ma io Cesare non ti avevo mai visto però lo dicevo furviata dal 67 però in effetti sarebbero tipo 70 anni 63 faccio schifo in matematica una cifra incredibile sì tipo qualcosa del calcolatrice 2020 meno 1967 53 anni 53 ok ero di 10 anni fuori vabbè 53 anni su Twitch ci può ancora è credibile dai sì sì ma poi la foto non si vede che sono giovane sì ma quale foto su Twitch no dai lascia i cazzo se ti pare quella lì che avevi fatto con tutti i tizi basket basta non so chi fossi in quella oh no ho appena realizzato una cosa atroce il mio nick è Collello 7 e adesso è parecchio plausibile sia un 2007 oh no la cosa mi triggerò un sacco oh no ma perché mettete i numeri allora inizialmente il io dovevo essere Collello 3 perché fra i miei gruppi di amici eravamo 3 c'era Collello 1 Collello 2 e Collello 3 io ero il terzo poi col tempo infatti a me non ve la dico però è col 3 però col tempo poi sono rimasto l'unico Collello in vita gli altri si sono istinti intanto non sapevamo come riprodurci quindi non c'erano altri esempi di Collelle quindi ci siamo istinti un giorno e quindi sono rimasto l'unico e ho deciso va a fare un culo il 3 il 7 è il mio numero preferito è il mio numero di complante che poi alla fine quando nasci è quasi sempre diventato il tuo numero preferito quindi è tipo ok va bene 7 Collello 7 buongiorno Black Wolf ho un numero preferito che a me mi fa strano dire il mio numero preferito perché non lo è buongiorno ma lo si faceva anche perché i nick molto spesso magari non c'erano sempre meglio dei numeri che xxprodark xx cesare grazie per l'osso ma tra l'altro io non ho messo ah ce l'ho cesare con una persona si che è lui però mi fa sempre schiettare tanto è basso un tempo era altissimo il volume e dovevo stoppare e dovevo smettere di parlare per diversi secondi perché c'era solo anche all'ospedale c'era il 67 sull'istintore che sarà il 2000 di netlog non ho capito sono troppo giovane per queste cose lui è un 2000 lui è un 2000 chi io sono 99 non mi offendere rientro come il 2000 lo stesso no 99 è molto più figo perché sono appunto alla fine hai la cultura di un 2000 comunque ok va bene infatti i miei amici i miei migliori amici sono del 2000 ok però è figo il 99 però è figo ma tipo l'altro giorno stavo stavo leggendo una cosa stavo vedendo un video tipo nel 2027 succederà sta cosa io dico quanti anni avrò nel 2027 stavo facendo i calcoli mi stavo incasegando un sacco poi dico ah 27 più è molto easy sì i miei amici mi fredono in giro per questa cosa perché loro non hanno neanche bisogno di fare più uno ma era bello perché io era semplicissimo i calcoli ero tipo a farmi il segmentario però benvenuti nella discalcolica sì no è assurdo esatto una banda tipo i discalcolisti anonimi discalcolisti anonimi ma ci starebbe pensa a quelli che sono nati nel 69 ma non se lo possono godere perché sono boomer quindi hanno un'età in cui non gli fa ridere infatti siano nati nel 69 quindi è proprio un'annata sprecata insalta il mio nick è bannabile stessa cosa mi sta ballenando un po' in testa da un po' di tempo perché boh e perché poi se io tipo scrivo una parola tipo perversione nel titolo Twitch non mi dice che non la posso inserire e se la metto sotto dove è invia la notifica ai follower lì mi dice no non la puoi mettere no sta cosa non l'ho capito ok no non è bannabile lo stavo seguendo perché stavo leggendo il messaggio di cesare tranquilla comunque concordo fisico così a priori l'allergologia era noessa su uno dei tanti reparti l'allergologia ok minchia madonna perché sì ok ma perché nel titolo lo posso inserire per te ho spinto il 2069 mazzolano perché il 69 per il figlio nel 2069 perché il 69 è il numero magico sì ho capito ho capito lo so lo so lo spiega a me ah per il figlio ah ok per ah ok l'annata ok chissà come penseremo nel 2069 se la razza umana si sarà già istinta perché lo metti no 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 è esattamente il contrario nel senso nel titolo non mi dice nulla io potrei mettere qualsiasi parola nel cosa da inviare agli utenti nella notifica lì mi blocca le parole ma qualsiasi quindi sono tipo eh che non ha senso cioè mi metti un blocco mi metti un blocco sono dimenticati di bannarlo da qualche no ma tutte le parole ogni parola non la considera e quindi io non capisco e se tipo la censurassi tipo con i tre asterischi tipo in time e tre con gli asterischi in mezzo tipo h e poi in fondo in quel caso sarebbe bannabile o io non è come marco di attack on titan che bello non mi ricordo che è marco però mi ricordo attack on titan quindi oddio se parli dopo la scoperta allora allora potrebbe morire in mille modi però se parli prima della scoperta allora boh allora si in quel modo no 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 è da bann allora sono scemi ticce no no non è da bann ma non ha senso allora sono scemi allora sono no però comprati un paio di occhiali un po' così boh ma perché c'erano troppi no quindi per me era un no 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 è da bann due no 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 non è da bann sì ma quel non è come se fosse un no 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 come se avessi spammato così no non è giustissimo così non ha senso però vabbè ok interessante quindi ti ok va bene quindi potrei inserire cose allora perché questo titolo perché questo titolo perché oggi ho avuto una rivelazione oggi ehm Patreon mi ha inviato i soldi e ho fatto ah ok mi sono arrivati 50 dollari eh guardo li vedo dico ah sì c'ho soldi poi dico aspetta ma non devo comprare nulla che cazzo me ne faccio ora di questi soldi e sono rimasto ok sto scherzando ok ci posso pensare ci è rimasto male no sto scherzando no non ci sono rimasto mai ci sono riflettere e quindi sono rimasto tipo che cazzo di senso ha anche perché dei soldi sulla banca ce l'ho perché le ha messi o mia madre o comunque poi mi devono arrivare tot soldi dalla borsa di studio e sono rimasto che non ho da comprare chissà che però appunto o cose del tipo una luce particolare o una webcam oppure queste cose che ho detto aspetto la borsa di studio però quei soldi mi sono arrivati e ho detto e questi che cazzo ci faccio tieni da parte eh ma non ce l'ho mai avuto una situazione in vita mia in cui ho detto oh posso mettere da parte i soldi perché non li ho mai vinti e quindi ero tipo ho bisogno di soldi ma mi li dai ok tieni i soldi e li usavo king me mici sì quindi sono rimasto ok sono explosion tipo i primi soldi mi sono arrivati alla borsa di studio ehm 1700 proprio no 1800 spesi nel primo giorno io l'ho visto proprio passare così ehm perché se metti un piccolo il tipo lo ti banno probabilmente cosa è fuori ehm su patrion nulla cioè è proprio una facciata per oddio mi sono cagato sotto mi sei sganciare la sedia è una facciata per poi permettere alla gente di accedere su discord e vedere i miei full edit però cose del sito insomma che prima ci caricavo di tutto poi una certa hanno detto ah no non puoi mettere contenuti che incitano al contenuti per adulti e tipo ero ah ok va bene allora levo le cose violente cose così poi una certa vedo ah si tipo questo questo e questo io guardo vedo uno e dico ma quello è totalmente la cosa più vanilla che ho nel sino ah quindi non vogliono nulla si no sto parlando di come su patrion mi hanno detto di togliere effettivamente tutto nonostante i contenuti prodotti li accetti no però non li accetti è quello che ti pagano per ti fai finanziare dai fan insomma twitch non per twitch per il mio sito quelli che te vedi che puoi vedere gratis ecco gente mi paga per averli ok tra l'altro sta cosa è stata distruttiva perché mese scorso ho perso tipo dieci follower dieci patroni di cui uno da 15 dollari uno da 10 e altri e altri che tipo l'ho visto ho detto no please perché vi siete andati ora devo scrivere due messaggi che sono assieme per favore potete evitare di scienze di scrivere per due minuti per favore poi in sala d'attesa eravamo circa otto persone tutte addormentate e avevamo lasciato mandato su un messaggio e avevamo lasciato il centro del corridoio libero per far passare la gente che deve parlare con l'infermiere che controlla tutto io mentre ero fuori nella scala antincendio entro un signore con la mascherina abbassata e dice salve un'informazione devo farmi il tampone ma dove devo andare io dalla scala antincendio vedo tutte le persone della sala d'attesa spalancare gli occhi e l'unico signore senza mascherina sbalza su e la mette ora potete scrivere anzi ero nella scala antincendio cazzo che paura che ho avuto purtroppo ce n'è tanti che non non ci si pensa devo dire onestamente che anche io spesso me la dimentico magari quando sto per entrare in un negozio che cazzo la mascherina e torno in macchina a recuperarla perché in effetti non succede non ci siamo tanto abituati quindi capita spesso di dimenticare non ce n'è di govidi è tutto un complotto è tutto un complotto e i vaccini e Bill Gates e 5G e la terra e piatta una cosa bella che siamo in un'epoca in cui oggettivamente di cose che non sappiamo come sono fatte che non abbiamo la prova materiale di come sono fatte siamo circondati tipo la corrente elettrica la luce che ci arriva in casa da dove cazzo proviene cioè non la vediamo effettivamente a differenza di un pozzo che vedi l'acqua da dove ti arriva se apri un robinetto dici ok è magia fino a prova contare ovviamente ci sono prove video eccetera però è così tutto fittizio che siamo una sospensione di credibilità che è pazzesca e mi sorprende che questa gente che mi sorprende che gente inizia a farsi segmentare sul 5G sul vaccini quando non si sa neanche la corrente da dove cazzo arriva ma sì guarda oggi ho detto un post che mi ha fatto morire da ridere cosa che c'era scritto tipo ah sì non credono al covid ma credono di aver vinto l'iPhone 5G cliccando un pop up e che Marzia 40 anni tutta calda li aspetta da 5 km da casa vero vero perché la gente non ha nulla da fare in questa vita sì sì ma penso che lui era sano perché era troppo tranquillo e poi ho visto l'inferno che lo accompagna vabbè uno può anche avercelo leggero pure per operarsi bisogna fare il tampone perché quello era il reparto covid minore quindi lì si fanno solo i tamponi per queste persone no non hanno operato senza fare i tamponi non cazzo però non c'era ancora la grande emergenza un attimo scusate la quarantena è stata creata per cambiare la batteria ai piccioni di piazza d'uomo o persone che si devono operare o perché l'hanno pagato per sapere se hanno contratto il virus buongiorno pizza la corrente si sa da dove arriva segnate non critiche mettere le fessioni intanto solo per criticare me non per salutare è diverso no ma effettivamente sappiamo e io non sto a dire che ah no non mi fido da dove arriva sti cazzi anche se fosse magia non me ne frego il cazzo torno di là mi chiudirà la webcam un attimo si un attimo fatto ok che stavo dicendo ah sì stavo dicendo come anche a mia zia che è defunta gli hanno fatto il tampone per dire lo fanno un po' a tutti ora come ora se no mia madre se mia zia avesse avuto il covid gliela facevamo vedere sarebbe stato molto brutto neanche vederlo un'ultima volta perché non si sono mai viste prima del erano anni che non si vedeva perché aveva chiuso tutto quindi sarebbe stato molto brutto poi forse non ce l'aveva quindi felicità se mi dai un bacino ti stroppo il bacino la felicità comunque se ti devi fare il tampone non andare nel riparto sopra al primo piano c'è l'info point cazzo boh è difficile a spiegare perché idealmente poteva aspettare e prima o poi qualcuno sarebbe passato qualcuno palesemente palesemente medico però appunto boh la gente fa non so che cazzo fare della propria vita ma perché mi sono portato al telecomando della tv della camera in sala boh io ho ancora il telecomando della mia vecchia televisione che è qui tra l'altro non c'è neanche una pila perché lo lo uso per per bloccare i fili quando sono sul tavolo tipo il caricabatterie che lo appoggio sul sul tavolo per non farlo scivolare sotto appoggio il telecomando a testa in giù sopra il cavo così che non scivola io sono un genio raga ve lo dico sempre o autistico quella è forma di intelligenza ti riferito spasmo di proprio un ragazzo spigiani spigiani madonna a me mi fanno una tenerezza oddio più che tenerezza proprio malinconia tipo oggi ero a correre ho visto questo ragazzino disabile che era su questo triciclo con le gambe legate ai piedali e mi ha fatto una malinconia perché perché la vita non è giusta semplicemente poi magari se non fosse fosse stato normale sarebbe potuto diventare un pezzo di merda però non è giusto lo stesso e boh alla fine vieni dove vai da gas o da me idealmente io voglio venire da entrambi è l'unico modo con cui riesco a è l'unico modo con cui riesco a a pacificarmi un po' con tutto lo schifo che c'è nel mondo con tutta la poveretta in Africa sperano che si rincarnino i bambini disabili no che le persone le persone che magari muoiono in malo modo fossero persone orribili però se non se non penso alla reincarnazione mi viene davvero una malinconia nella vita proprio e il motivo del il significato dei soldi e della e della vita è proprio comunque te c'hai ancora webcam disattivata dimmelo se la devo riattivare sì stavo leggendo da vicino vicino il messaggio ok tranquillo perché io non ti posso garantire nulla non so se ho partito o cose nel genere se puoi meglio meglio no da te se mi io vengo da chiunque mi dica di sì e quindi e appena mi arrivano i soldi ancora mi è arrivato vicino ancora mi è arrivato nulla siamo al 5 e che tra l'altro ultimamente mi stanno arrivando un sacco di mail da da intese San Paolo e tipo dico sì mi sono arrivati no non mi è arrivato cazzo però il viaggio faremo costa puoi andare anche in Sardegna costa per andare in Sardegna un centinaio per andare ok vai pure un modo o nell'altro lo trovo tranquillo un giornino lei puoi venire da me buongiornissimo ciao Leo perché ho detto buongiornissimo vaffanculo buonasera 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 grazie ma apprezzo ma ci sono venuto già ieri a casa tua sì no ok a parte ce n'è stato uno va bene ma proprio non me lo spiego non lo spiego e infatti il significato della vita l'altro giorno mi sono messo a riflettere sul quanto diamo per scontato la nostra vita il fatto che io mi possa lamentare di puttanate come voglio una ragazza è ingiusto che non abbia ancora una ragazza e poi sono svegliata quando ho fatto l'operazione alle caviglie si potrebbe dire per certi versi ho provato il sapere della sedia a rotelle e porca puttana porca pensiamo di capire cosa vuol dire e fidatevi no perché penso che abbiate capito che non mi manca l'empatia ma fidatevi che non se ne ha idea finché non si prova e poi mi sono messo a riflettere sul fatto che mi sa che stavo leggendo qualche manga stavo guardando qualcosa non mi ricordo di che parlava di più di un cittadio d'anni fa non mi ricordo che cazzo stavo guardando però boh non mi ricordo però mi stavo facendo stavo riflettendo sul fatto che solo qualche decina di anni fa la vita era molto meno scontata no era la vita era una merda insomma basta basta pensare alla guerra basta pensare ok ma pensare al 1940 in cui te ti potevi potevi dire ok oggi potrebbero bombardarci e pensare adesso che sono ah che palle non devo andare a correre posso posso uscire fuori da casa mia tranquillamente senza paura che qualcuno mi accolte no non puoi perché non ci sta i guvidi si va bene però mi ha triggerato perché oh mio dio e i vegani e i 5 gigisti i 5 gigisti dai mettiamo i vegani insieme ai 5 gigisti e ai terapeutisti perché no hai ragione nel pezzo moltissimo e mi son sentito io non saprei come reagirei se ci fosse la terza guerra mondiale che io non voglio tirare però secondo me accadrà fra qualche anno e e quindi sono tipo merda cosa succede se metto una leva obbligatoria ecco appunto mi tagli una gamba dice bene saltare e se vedi che è una merda in giro madonna che merda l'ho visto oggi poi ho visto anche dei meme perché sono orribili mi ha mandato un mio amico con explosion e power ranger di questo l'ho visto però è stato tremendo ho visto anche la cena del dopo esplosione con la gente ferita prima fuochi d'artificio e accanto c'era una una nave del carico di una nave sequestrata nel 2013 ai russi di un componente chimico ammonio non mi ricordo che cazzo era però no non si sa ancora idealmente è quello e il problema che era dal 2013 che questo carico era lì a cazzo di cane senza controllo perché è stata un'esplosione gigantesca quindi si Trump dice ah si secondo me è stato secondo i cosi del gli ufficiali dell'America è stato un attentato ok ma secondo loro idealmente è stato quello no l'hanno confermato hanno già confermato io mi sono fermato oggi alle tre quindi ok quindi è stato un attentato boia comunque famiglia ma c'è questo quindi si mi lascia ma non vi danno neanche un giorno di avvertimento ma dai ma si ma incrociamo le dita che cosa dove date a contare tu mi like no per dare da da accesa sono carico no io non voglio andare in guerra io ho una paura bestiaire di morire come uno stronzo che è quello che succederà a me comunque l'episodio successo non così recentemente ma diciamo degli ultimi tempi che ha colpito di più sarà la mia anima artistica ma è stato Notre Dame io pianto guardavo oltre il giornale e piangevo è stato tremendo quello tra l'altro è preso fuoco un'altra un'altra cattedrale in Francia ultimamente si però c'è cazzo Notre Dame non so se è una delle meraviglie del mondo ma se non lo è ci potrebbe stare tu non lo è tra l'altro la cosa divertente è che io io l'avevo io l'avevo appena studiata il Notre Dame quindi ero tipo ah si conosco tutto così magari un giorno quando la visiterò e prende fuoco grazie francesi no beh per fortuna il più si è salvato diciamo è stato il tetto il crollo peggiore però cazzo è un'opera del genere in fiamme devastante sono state trovate degli ordini all'interno della fabbrica allora secondo me non se l'aspettavano secondo me hanno fatto magari un attentato di ci postare però non si aspettavano che c'era anche quel carico lì accanto perché dal 2013 c'era quell'affare che cazzo ne sapevano buongiorno gas spesso quando fanno gli attentati sono anche ben informati e tutto eccetera eccetera ma poi di solito il fatto che lo rivendicano mi dispiace poi non so chi è stato anche quella cazzo sì no il 2020 è stata la merda pensavo povericcio è prima del 2020 se non sbaglio sì è prima del 2020 adesso non mi ricordo quando no è prima del 2020 sicuramente fuoco fuoco sarà il 2019 magari dove è stato sì il 2019 15 apri 2019 c'è così tanto tempo mamma mia effettivamente è vero che se ne parlò al cazzo la mia prova di francese ci è rimasta di merda ma è stato tipo un incidente quando ho capito ti arrivo a retto 10 birre sono orgoglioso mi fai una per favore perché una dipende che birre sono se sono 10 corona sarà molto divertente arrivare o se sono 10 birre al limone che ci hanno da 1 a 3 grado alcolico però ho scoperto che da 1 a 3 è tipo considerato analcolico quindi è molto divertente perché dici ah sì ha poco di alcolico però è alcolico no non è considerabile alcolico ma ma guarda ma ti assicuro che non si prende fuoco per qui mi sono adotta al politeismo entro lo stesso nelle chiese perché sono un amante dell'arte e sono ancora qua tranquillo è stato molto divertente 10 cerrest mi verrebbe anche la moretti non mi piacciono la cerrest e la moretti io bevo il cnusa quella non filtrata come fate a bere se dire beh eh vedi che salta con corda io sono artigianato eh vabbè te c'hai sordi io sono io sono un ragazzino che va alla pam e prende la birra perché perché ho voglia di birra oggi quindi prendo l'icnul o tipo per le serate quando vogliamo fare qualcosa di speciale prendiamo anche la birra no a me non piace la moretti ce n'è una che non mi ricordo mai il nome perché ha un nome impronunciabile c'è tipo disegnato un frate sulle etichette quella mi piace non mi ricordo mai il nome perché è così austriaco cazzo non so impronunciabile io credo a ciccio e addio mottone sono molti di ma diversa categoria non so di dove è acceso c'è un frate mi pare che ha fatto un boccale in mano ecco e poi quando si deve fare le serate che ma dice ok oggi dobbiamo bere quindi prendiamo un botto di lattine da 23 centesimi di birra perché alla la sesta lattina tranquillo che non ti ricordi più il gusto quella è la sardegna vero Giulia? eh non so io ma se ti do la mia pipo mi ricarica il tempo sì il nome sembra abbastanza impronunciabile può essere potrebbe essere quello Franziska Aner anche se non è che bevo tutto a sabbia onestamente come ho già letto sono più da probabilmente è questa alcolici alcolici è vero è molto meglio io non tendo a bere cose diverse dall'acqua ultimamente negli ultimi anni mi sono proprio ritrovato a dire a preferire bere l'acqua perché appunto se riesco a tagliare su qualcosa tipo fanta coca ogni tanto mia madre se ne esce che compra 12 litri di coca cola a cazzo di cane quindi per due settimane si va avanti di coca cola oddio neanche due settimane una settimana però meglio no e proteine ora sto andando di proteine ping pong e passa la paura sono capottato sul tavolino perfetto ping pong e vi passa il campello cazzo noi ci eravamo capottati avete presente quei tavolini da spiaggia tipo che c'è la valigetta e fa il tavolino con le due panche avevamo una roba montabile così e ci eravamo portati tipo tutto il pranzo al mare sembravamo dei cavolo di scusa Cesare ma sembravamo dei cavolo di terroni scusate se ci sono altri terroni quelli a brutto che si portano tipo la peperonata in spiaggia sai così mica a un certo punto ha ceduto un sasso e siamo andati giù con tutto il tavolo che cazzo come cazzo tipo i quattro bro madonna è stato bellissimo la blanche del namur la blanche del namur non tornate più indietro sai il tanto alcolica o nel senso che bu che bu sai il bello di essere me è che io non ho memoria quindi io anche se provo le cose buone poi me ne scordo quindi ah beh a posto sei in un diario ciao minù no ma poi se le riprovo poi mi ritornano le memorie però è proprio un eliminato proprio mi sto lì dentro il suo scaffalino e teniamo troppe cose per la testa importanti da pensare per pensare a quello tiro mutande ho paura a chiedere che diavolo sia il mitico colpo leggendario del tiro mutande e non lo chiederò non l'ho chiesto eh ma non me lo spiegare per favore non lo voglio sapere io io ma lo voglio sapere quindi dillo a me io a vimpong sono sempre quello che fa bere tutti ah io avevo letto ping pong convinta che mi sono sbagliata a scrivere invece è proprio il vino scusate che merda è il vino possiamo possiamo confermare tutti che il vino fa schifo no beh io non riesco più a bere più di tanto perché mi ci sono presa la prima ciucca prima e l'ultima volta che ho vomitato per l'alcol quindi riesco però non mi fa impazzire ma da lì a dire che fa schifo no dai il vino il vino potrebbe essere buonissimo perché è succo di uva però è reso brutto perché lo lasciano a muffire io non ho mai bevuto vini diversi da quelli che danno alle cene di famiglia e non li ho neanche bevuti così tanto perché ero piccolo quando facevo le cene di famiglia quindi cazzo però mi hanno preso come cameriera in un ristorante di quelli di Stralus so che c'era anche l'albergo e prima di iniziare il lavoro ci hanno portato dal produttore di vini che riforniva e non so quanto cazzo di vino abbiamo bevuto quel pomeriggio di ogni finora la bottiglia ci hanno portato provate questo provate questo bianco rosso rosè di tutto abbiamo bevuto mi pare che il metro ha fatto fuori non dico 12 bottiglia ma comunque non so quanta cazzo di roba ho bevuto una roba allucinante un giorno e avevo scoperto un vino rosè che si chiamava birbè mi è rimasto impresso che porca puttana era di un buono quel vino e non l'ho più trovato un giorno tornerò a quel ristorante solo per bere quel vino cosa vi porto una bottiglia di quello volete altro no il tiro mutanda il tiro magico che fai dopo la quarta partita in finale avviene nel momento in cui senti tipo troppo caldo quindi ti metti le mutande in testa possibilmente senza pubblico il 99 sul centro è canesco l'1% rimanente di fallimento dovuto all'eccessiva botta che ti fa correre sul tavolino ok grazie ma io non lo volevo sapere ma grazie mi presi una da 9.8 gradi artigianale affumicata era buonissima 35 centilitri 9 euro minchia si beve la prima regola è andare per gradi altrimenti ti senti male ed è per questo che me ne sono sbattuto l'ultima volta perché era finito tutto l'alcol pesante e ho detto oh well andiamo con le birre perché era finito tutto avevo sete l'unica regola che applico di norma è evitare di mischiare se prendo un alcolico prenderò quello per il resto della sera si e spesso si traduce nel fermarsi al secondo bicchiere perché di solito cedo e prendo il japanize al terzo è meglio se non ci vado non so gioco il secondo non l'ho finita non l'ho finita ce l'ho ancora lì perché l'ho detto non mi fa impazzire bere cose diverse dall'acqua a cazzo di cane proprio deve essere un'occasione speciale quindi rimane lì non so che cazzo ne farò che poi è pochissimo vedi sono tipo boh io ne ho presa una in lattina da 2 euro e 60 facciate quella vodka record è stato bere una bottiglia da sola però non era la vodka pure era quelle non mi ricordo era la melone o la pesca o qualcosa del genere senza rendermene conto eravamo avevamo organizzato 4 giorni periodo di capodanno a casa di un amico tutta gente conosciuta online era venuto su uno da da Pescara uno dal Veneto io dal Piemonte ci siamo trovati a casa di uno a Bustarsizio che è vicino a Milano e ha chiamato tipo il mio miglior amico dei tempi diciamo e gli ho chiesto c'è una stanza dove posso andare a chiacchierare tranquilla facciamo casine tutto ma si si vai di là c'è camera mia intanto mi hanno allungato sta bottiglia di vodka e io sono andata di là intanto che parlavo al telefono camminavo su e giù per la stanza e ogni tanto buttavo giù buttavo giù sono tornata in camera da loro mi allungano la mano per ripresa la bottiglia l'avevo finita senza neanche accorgere io tranquilla buttavo giù va bene Giulia si si mica ma abbiamo bevuto il mondo quei 4 giorni dite lo giuro è successo delle cose che non stanno né in cielo né in terra minchia sono divertita troppo quei giorni red bull mezzo litro ghiacciato più di un litro e mezzo di limoncello e vomitare l'anima ecco il fatto superare live puoi bere si lo so lo so ho fatto una live in cui bevevo però proprio non ne ho voglia perché appunto dovrei non mi sembrano due gusti che possono star bene a me piace la red bull limoncello non mi fa impazzire devo dire no red bull prima poi limoncello non disse a me boh c'è da dire che limoncello comunque non mi fa impazzire io non so se l'ho mai provato no l'ho provato l'ho provato al al GRV che lo consiglio a tutti che praticamente c'è la serata in mezzo alla settimana comunque dice non più uno poi l'altro mischiate era in singolo mi ricordavo che era insieme la limoncello red te comunque fai cagare a spiegare perché io mi ricordo che era ogni volta che tipo ecco ero così ubriaco che questa tizia mi ha infilato una seringa in gola io mi mi ha infilato e questa gli aveva infilato una seringa qui perché da come lo spiegava una seringa grossa così invece gli aveva spruzzato in gola così dalla bocca ma tipo questo dopo mesi l'ho rispiegato e io ero tipo madonna che merda io ho detto ma vai a cagare ma vai a cagare Emma entra in discord il fatto di Emma è che non è c'è il fratello in quarantena fino a adesso in realtà fino al 6 in camera sua e adesso è dal padre quindi è tipo senza microfono poi non sa neanche Emma sapete perché non c'è più perché dopo che è andato al mare i suoi ore si sono sminchiati tutti era stanchissimo e andava a dormire alle 10 e ho detto ah minchia che ore di merda pensando alle 10 di mattina poi ho detto no alle 10 di sera ho fatto ok con le cuffie ma io non voglio farmi male a me mi piace bere perché comunque mi permette di essere più libero di pensare un po' meno il mio problema nella vita è che penso un botto ma comunque ma può volendo vuoi? allora entra entra buono buono entra a me mi piace l'alcol perché mi permette di pensare un po' meno che io penso troppo io mi faccio troppo i segmentali non riesco a stare tranquillo proprio segmentali no no mi piace questo lato di me però appunto nelle serate fra amici magari se penso un po' meno è meglio neanche io però arrivare a quel punto a parte non mi è mai capitato però brutto brutto eh Cesare se te te Emma salta te non lo fai Emma direi di no salta l'ho già fatto non so pizza pizza no è venuto solo per salutare è la madonna il bordiello siamo quattro gatti se qualcuno lo vuol fare che non l'abbia già fatto domanda mi sentite si buongiorno perché sono entrato c'era un tizio che cantava eh la canzone sottofondo porca puttana c'aveva 200% detto minchia oh mio dio no no poi è da gustare io come ogni cosa va gustato tipo tipo quella serata ecco che vi stavo parco oh imalto un attimo ti abbasso un pochettino no tipo quella serata al GRV gioca i roll dal vivo il mercoledì proprio la serata in mezzo alla settimana fanno la serata in cui si beve un botto in cui tutti portano una bottiglia di alcolico ma fra le più disparate tipo io ero lì con i miei calici con il mio corno col mio corno a riempire ok non sa più di alcol a riempire di continuo con un goccio un goccio di quello un goccio di quello e provavo di tutto ed è stato molto bene e si compra tipo questo l'ho comprato al al festa dell'unicorno alla festa dell'unicorno che davano insieme la sangria ed è fantastico questo appunto per gioco il ruolo dal vivo usi questo e stai stai sciallo noi abbiamo uno dei più bei festival celtici possibili immaginabili qui nel Bielesa che però quest'anno è saltato l'anno prossimo non ci sarò è saltato anche il cervello no ma Dio santissimo qualche mod può controllarlo che ogni tanto gli scorregge il cervello ma chi è che l'ha inviato scusate non ho capito è stato pizza non ho controllato ho cancellato subito senza controllare mi stai visto avviato un video in diretta su Instagram oh mio Dio me ne frega un cazzo ma si non sapevo che anche Telegram avessero le linee in guida diciamo è stata baddita cioè ma non è libero Telegram no la la pedo la pedo quella è stata maldita quella nessun sicuro c'è stato il grande raid ma che la gente vabbè ma quella è illegale proprio si no 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 ma la gente si è si è difesa si è lamentata dicendo eh ma sul Telegram è il luogo dove circola la roba illegale quindi non la potete levare io ero tipo eh perché dovrebbe esistere un posto dove gira la roba illegale non ha senso non dovete lamentarvi è una cosa illegale siete riconoscienti ma la roba si appunto la roba illegale però ha detto la pornografia appunto non mi risulta sia illegale no 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 ma sicuramente sicuramente l'hanno l'hanno un po' ridimensionato la Bibbia Cof Cof sì se specifichi il tuo canale è pornografico si può fare se fai il canale esempio Fortnite non puoi mettere cose potreste ah ok 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 ci sta brava fai cazzare quindi fai porno Fortnite e così si è come se non ce ne fosse come se non ce ne fosse ora specifico il mio canale è pornografico no perché poi lo devo collegare a Twitch quindi Twitch mi fa no non lo puoi fare sui donomi di due canali in cui ci sono welcome to Caritas ok a me mi triggerano queste cose io mono che si è fatto male niente mia mamma che sta dando tipo di bocconcini ai gatti e Socrate è un dupo travestito a gatto e credo che si è arrampicato sulla gatta mamma sono in dive io se non tiri bestemmione ma ci possono tirare lo sai sì però però è meglio per rispetto bla 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 sì per un atto ho pensato anch'io sembrava la tua voce ma vabbè magari una certa hai tirato un bestemmione che è sono concentrato a ospitare e poi tu non eri tutta religiosa io se bestemmio mi rompi i coglioni e poi bestemmi te come non hai bestemmiato ci sono le prove in video hai tirato anche una bestemmi abbiamo le prove tutto registrato sì devo tornare indietro hai bestemmiato Leo puoi tornare indietro non si è sentito però non glielo dire non si può tornare indietro comunque ah ok non si può tornare indietro domani però la ritroverò no 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 domanda ma si ha bestemmiato o no? non ho sentito a me sembra non ho sentito no perché ti sei bloccata la voce ah si è bloccata la voce quindi non si è sentito eh già ma io sono abbastanza certa che tu vado bestemmiato perché sei una blasfema ma ti sei dica dica perché Anna diamantino perché è VIP no te sei mod non puoi avere diamantino mi scuso per il cringe per l'ultima volta ciao è stato molto divertente è bello perché ti dicevi no io la ragazza ubriaca mi ha cantato la buonanotte questi sono obiettivi ehm no ma la cosa divertente è stata che no ma io non mi piace bere bla 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 è la quarta volta che mi ubriaco questo no è che altro per me è arrivata Anna ubriaca è un po' largo in vocale perché era ubriaca e poi abbiamo detto ma si entra su Discord eh io ce l'ho metterlo sulla scala poi ero pronto non ero ubriaca ero ubriaca sì sì e io sono bionda e lo dicevo anch'io che non ero naturale proprio bionda ho iniziato a urlare il mio amico mi stai uccidendo quando mi stava semplicemente mettendo a sedere su una sedia e non ti ricordi e non mi ricordo niente però è stato bellissimo ma non può essere bellissimo se non te lo ricordi sì come farai mi hanno fatto vedere i video il giorno dopo ma che merda ma è bellissimo ci sono io che urlo in un pratino sdraiato perché piove perché mi stavano annaffiando con gli irrigatori automatici che merda ecco quel livello a me non piace io Emma questa cosa degli irrigatori la faccio quando ero in clinica con gli altri si chiama mi può ridere domande se fossi in te era fradi non ero cosciente già no vabbè non può più buttarsi a fare la doccia però bagnare i piedi era bene e poi è vero che odio bene infatti è la quarta volta in cinque anni aspetta ma hai quindici anni come in cinque anni era la quarta volta quando hai iniziato la prima volta molte cose ci devi dire no perché hai iniziato l'anno scorso e nel giro di un anno si è obbligata a quattro volte si ma in cinque e poi effettivamente non ho detto di il vero odio l'alcol è diverso questa è una super cazzola esattamente sono impegnati invece dell'acqua per fare il caffè ero in autostrada dopo quindici minuti mi sono reso conto di aver lasciato la macchina a casa come facevi essere cioè eri in autostrada a piedi e dopo un quarto d'ora ti sei reso conto di essere a piedi non ho capito credo e poi come fai a ubriacarti mettendo la redbull a posto di acqua nel caffè non è alcolico commetti ma ragazzi mi ero partito in posto di nuovo a 2000 sto capendo sì anche a 10 anni ho bevuto un pochino a carnevale per colpa di mio fratello sì vabbè ma che cazzo vuol dire la prima volta che ho bevuto avrò avuto 6-7 anni perché mio zio mi ha pucciato il fondo del cucchiaio nel vino per farmelo assaggiare ma così non conta ero solo ma no ma dai non è ubriaco per me è quel punto dove tipo c'hai il ligotto facile di fare i billeti tipo il brillo secondo te è quello no no dignitosamente brillo quando gli scherzi cosa distingue brillo da ubriaco per me anche me lo stavo chiedendo anch'io brillo secondo me è quando sei felice è questo tipo di frastornamento confusione che vedi un po' annebbiata un po' ubriaco è quando c'hai il senso di vomito quella nausea orribile quella lì che dici oh merda vomito è quello ubriaco è poverso che non capisci un cazzo e ride ogni minchiata ti toccano e non hai senso di orientamento né equilibrio e quindi rischi di andare per la terra quello ubriaco confermo che mi sono ubriacata quattro volte credo ci compriamo full guys l'ho visto l'ultima recentemente se mi spammi sul tuo canale cioè nel senso se fai live su quel gioco e ci sono anch'io allora io per farmi spammare io vengo brillo ragiona l'ubriaco 20 euro l'ubriaca ragionava di merda ma ragionava insomma non è che non fossi io ci spacchiamo sì no eri parecchio ubriaco io non so secondo me ubriaco è proprio il punto in cui smetti di ricordare forse perché brillo riesce a pensare ai limitatori disattivati no no ma non esiste che uno non pensa completamente quelle sono minchiate che dicono le ragazze per andare a troieggiare in giro no 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 aspetta difende perché ti giuro a palma ho un vuoto di nove ore non mi ricordo boh io ti dico sono arrivata a vomitare ma io mi ricordo tutto di sei qual è la cosa mi sono sentita male eccetera ma mi sono sempre ricordata tutto ed ero cosciente delle mie azioni magari non cose che avrei fatto da sobra ci avrei pensato un po' di più quindi si il disinibito però non è che io mi ricordo di essere salito su un autobus e di essermi trovato su un taxi no allora secondo me sapete qual è il fatto che secondo me c'è qualcuno con lo stomaco più resistente tipo Emma che ha uno stomaco di 30 kg da quanto mancia l'ostral di rata ormai da maianto e quindi appunto non non vomita non c'è il senso del vomito quindi può bere di più e quindi l'alcol ha più tempo per fare effetto e fa più effetto perché appunto ne puoi prendere più c'è chi invece ha lo stomaco più sensibile tipo io e Giulia che non riusciamo a superare un certo limite perché vomitiamo prima quindi probabilmente quella la cosa aspetta io ho vomitato solo quella volta lì e mi sono fatta 11 bicchieri di vino bianco a stomaco vuoto a 16 anni e non avevo mai bevuto ok penso che avrebbe vomitato chiunque in quelle mondi eh Andrea il nostro amico può bere un botto eppure bambino cioè Ema può raccontare delle cose che fa Andre che sono tremende è vero no quel ragazzo non è umano il corpo umano è diverso secondo me non è italiano nemmeno Ema è russo sembra un po' russo Gas io posso sentire per correttezza io lo direi al tuo amico lui lo sa che noi lo consideriamo non umano o se vuoi proprio essere corretto al massimo glielo dici a lei che o gli parla a lei e che riusci un attimo a fare cose o gli parli a te e gli dai tipo un ultimato vero di io a lei una settimana di tempo per redimerti altrimenti ci parlo io con con Tizio e Caio non so chi è il tuo amico c'è un amico ha scritto ultimamente c'è la ragazza di un mio amico che fa un po' la troietta con me il problema è che il mio amico è strageroso e in più lei ha 19 anni e 225 aspetta la sua amica del tuo amico fa la troietta con te la fidanzata del suo amico la fidanzata ok fa la troietta con te ma che collega le sinapsi che collega i pallini allora c'è il cariceto che si è stancato di girare sì ora ti riabituiamo agli orari di merda tranquillo c'è presente il lacrimine della stanchezza sì sì ecco tra l'altro te domani devi stare con Leo perché io dormo quando arriva lui quindi ci devi stare te sì ma svegliati Dio Cristo oh non ce la faccio ieri sono stato fino alle 6 sveglio ragazzi siete in 4 che fate 4 discorsi diversi non scoperte il giorno dopo ma dice che è un problema perché non abbiamo distrutto nulla ok Zalta sei un cioè dai consigli proprio di merda fattolo lì ne è vero Leo ho un'amica che è assurda davanti al ragazzo ma lo fa per succedere ma cosa vuol dire ho un'amica che è assurda sì comunque tutti vogliamo parlare con noi però noi non riusciamo a stare dietro a due discorsi non ho capito la cosa Gino prende il reddito di cittadinanza adinanza non ho capito le merda di quali sono probabilmente si cambierà dalle notte alle dalle nove a mezzanotte dalle notte ho detto a settembre settembre sì non sono venuto a scusare per ovvi ragioni ma che è stato di verità è stato cringe più chiaro però è stato di verità che ci manda fuori a disco perché siamo troppo rumoresi sennò ci ha fatto il bordello ed eravate cringe sì eravate cringe no ve l'ho detto anche questo discorso orientato punisce in castigata mi ha scorciato la pancia brucia Ivona dai vedi ti punisce per aver fatto pensieri impuri il tuo gatto è Dio Gino l'autista ah Gino prende il reddito di cittadinanza ah ok quindi quindi mi sono cioè mi sono non è vero il reddito di cittadinanza lo può prendere anche se lavori certe situazioni potresti prendere il reddito di cittadinanza che potrebbe essere anche 50 euro tipo mia madre buonasera Anna Anna dimmi che ci sei ancora devi farmi la cazzo di cosine c'è uovo con quel cazzo di lavandino che orrendo dai dai vieni vuoi botte pensi che perché sei alto guarda che ci arrivo lo stesso te la tieni un'occhiata anzi più comoda ti tiro un pugno tu un giorno uovo comunque Giulia pensieri impuri che sono solo sono solo l'anticris ah pensieri il tuo gatto ti puni grazie io ti difendo io mi difende Cesare dico perché hai eliminato sto messaggio io c'ho i miei bro che mi difendono io c'ho la mia gang mi difendi anche te mi sto allenando solo per quel motivo perfetto perfetto fatti ciotto dai teatro oggi ho trovato sopra il frigo accanto alle proteine scadute vecchie che ho buttato via queste bustine per il pre workout ho detto massima prendiamole oggi no ma non erano scadute no le proteine scadute erano in top tipo sviluppò i poteri supranaturali vale 06kk benvenuto all'ultima scena uovo ti sei perso Saltarius che mi minaccia e Cesare e Leo che si mettono dalla mia e mi protegge no ma c'era c'era è già un po' che c'è no ha scritto cosa mi sono perso Leo ma le fai le fai ancora i confessionali si 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 le abbiamo fatti ultimamente in questi giorni sono sempre stati confessionali oggi è stato un po' speciale perché appunto mi sono rimesso a riflettere sul significato della vita e mi sono rimesso anche a riflettere sul fatto che molti anni fa io ero arrivato al punto in cui disprezzavo tutto odiavo tutto e il mio il personaggio che avevo creato era tipo il dio della distruzione proprio per far capire quanto comunque non vengono gli emoti per dirti un po' cringe senza gli emoti eh ma tu non dovresti dovesse schierarti dalla mia parte per proteggermi brutta persona ma e quindi odiavo tutto e tutto tutto e tutto però negli ultimi anni e soprattutto nell'ultimo periodo mi sono andato al pacifismo non che io ami tutto a tutti io disprezzo molto però è una cosa perché mi sono rifletta anche sul come Giulia pensa un po' al mondo e come buongiorno un cazzo poi tipo molto spesso dice ah no mi stavo per mettere a piangere a lacrimare però mi sono ricordata che non ho sentimenti lei si impegna per negare i suoi sentimenti buoni invece io una cosa che mi sforzo a fare è proprio sottolineare impegnarmi ad amare incondizionatamente proprio perché non voglio odiare un po' di inculato e magari cambia non voglio perché hai seguito mi fai rosicare pizza e quindi mi sto proprio impegnando per amare tutto e tutto poi ogni tanto scoppio anch'io però mi trovo di vivere una vita molto più serena perché non cosa ho fatto scusa scusa se mi tocchi i gatti anche solo la sabbia dei gatti ti strappo i piedi del corpo uno per uno ci faccio una corda e ti c'impicco ma cosa hai tolto la ricompensa 20.030 riflessioni sì perché hai tolto tutte le riflessioni perché è un pigro del cazzo perché a una certa me le hanno fatte fare 60 le volevo fare tutte 60 di fila sono arrivato a 30 ho detto ok no devo stopermi un attimo perché io tra 200 punti canale arrivavo a 60.000 e poi devo usare la combo 99 riflessioni il cazzo ma guarda sono anche sotto l'allenamento e letteralmente hai presente quando fai un attimo sforzo di muscoli ecco li sento tipo tutti in tirare di continuo tutti i muscoli del mio corpo quindi sono tipo ok no grazie domanda domanda quanti mod siamo? pochettino pochettino quindi se io se io sbaglio attivo mod massimo tre persone e uccido qualcuna se ti fai cosa? io posso prendere mod solo tre persone che cosa vuol dire? no vuol dire che puoi diventare mod ma se se non sei mod vorrà dire che ti aprirò dal pube fino alla gola e poi ti impiccherò con il tuo stop madonna l'altra volta sono entrato nella live di ma ok che ragazzo che aiuta fieri che ne reacciona allora saluto con un salve e mi risponde un certo malvribotto con salve cesare e io stupido faccio il figo figo il bot che saluta e malvribie mi ha risposto quando è un bot è un nostro amico ok ah si si come fai per il viaggio allora per il viaggio il fatto che io il motivo per cui sono andato a ho chiesto proprio chi mi può ospitare perché non posso spendere tanto proprio vorrei evitare di spendere tanto perché non ho questa disponibilità economica gigantesca quindi sarebbe tipo difficile dire ok vengo una notte poi trovo un albergo perché sarebbe tipo ok devo spendere altri soldi per l'albergo poi dipende se tipo però non so quanto potrebbe venire a costare quindi sono tipo eh se posso scroccare però ti prometto una cosa prima Roche come ti pronuncio benvenuto all'ultima scena però ti prometto una cosa fra un anno nonostante nonostante avrò mille spettatori al live me lo auguro nonostante avrò centiaia se li avrò di spettatori al live non sarò morto spero anche quello io verrò da te e anche perché credo che dopo un anno che tipo conosce la persona online anche tuo padre dirà sì dai lo puoi puoi ospitare perché dopo un anno l'avrai conosciuto le maschere ne stavo letteralmente parlando con Emma e Leola che ero ieri e tipo mentre ne stavo parlando stavo facendo letteralmente il cretino tipo ma io sono un cretino anche nella vita reale quindi ero tipo ok ah signor zoltà adesso se tocchi la casetta di grounded ti seguo i feori aspa c'è ho investito perché sono pigra se ti posso aiutare eh no non mi dispiacerebbe secondo me si pronuncia roic così non mi dispiacerebbe pizza sono sincero roic per me puoi venire da me ma è quel rischio che ti ho detto per il rischio di mettere la partita con differenze che ho scoperto forse è retrocesso no mi dà si pacca tutti quindi è stonks ah era roic sono troppo forte allora dopo dopo un battito la storia mi fa cringiare poi boh vediamo ma in quel video cioè io perché quella è una mossa infida fagli vedere quel video proprio perché quella è proprio non puoi dire di no dopo che senti una storia del genere però però il fatto che sti cazzi viviamo viviamo per noi stessi viviamo per essere felici e non è solo non è una cosa egoistica io ho anche un altro amico in Sardegna quindi non è del tipo ah no è solo per il viaggio potrei chiedere a lui però chiesi dica ma anche per te domani sera lo facciamo al confessionale dopo domani che giorno è oggi è non era domani oggi è mercoledì oggi è no è venerdì oggi è mercoledì o giovedì oggi è mercoledì che è diventato giovedì e il prossimo è venerdì esattamente nel senso di venerdì sera o nel senso di giovedì sera venerdì sera venerdì sera Roy che vuoi fare il confessionale venerdì sera? comunque c'è questo quando è in blu che non ci tiro Ale ciao Ale Rosakè mi calzo un tuo grande fan e chi cazzo è Rosakè? sono io perché sembro lui a quanto pare io non sono fan invece di me stesso io faccio quella musica solo perché mi porto un botto di soldi mi devo salutare oggi no quindi parti dopo domani? no pizza sì comunque per il mio più strade sì ci sta eh va hai detto come non pizza torni vero? parto del 7 comunque la live ti rifai di nuovo? sì sì si spera Cesare io sono un tuo fan so per cosa tu sei mio fan? mi avvalgo della facoltà di non rispondere sei una merda non posso dirti sì sono tuo fan perché sarebbe falso a me mi fa schifo la falsità preferisco buttarla sulla battuta cosa ti fa schifo? ma anche perché era una battuta la sua vuoi essere tu sei mio fan ma che cazzo vuol dire? non segui i maschi perché? cosa sta dicendo Giulia? che sei mutata e ha fatto il labiale non lo so che sta secondo me mi ha infamato grazie mille ma è il fatto che io ti stimo più come persona è molto diverso dalla ah sì sono un tuo fan secondo me è molto più umano boh non lo so vabbè io scordo l'ho deciso di sbattermi fuori va bene così grazie mille Giulia per questo sport quando arriverò in NBA vi ringrazio mi ringrazio meglio essere stimato come persona vero no 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 ha appena detto che è meglio quello che ho detto io perché ho detto io lo stimo come persona cosa hai detto te? lo stimo come persona sono fiero dei suoi dei suoi obiettivi della vita non fan no ma fan è proprio deriva da fanatico da uno che ti idolatrizza e fa schifo fa schifo ma io perché se ti metti come a livello a livello di un fan non puoi stipulare un'amicizia o si però nel senso ma l'ha detto così e non penso intendesse fan no no vabbè lo so lo so ma infatti l'ha detto la battuta fin dal giipo infatti io l'avevo buttato in battuta giulia no no tu hai fatto tutto serio ma sì perché la verità ma no secondo me è più bello dire la verità anche perché è una bella verità se tipo non mi fregavano non mi fregavano perché perché la verità in questo caso era bella se tipo non mi fosse fregato un cazzo in quel caso l'avrei buttata in cacciata ecco vedi te la sei presa nel culo a te ti ringrazia quando diventa santo no è più probabile che entri nell'NBA visto che Dio non esiste mi raccomando non fare il mio nome lassù perché sennò come ti fanno santo smetti di essere santo Zantario stai già diverse volte che fai questa cosa di scorreggiare contro il ventilatore secondo me sotto sotto ci stai provando è già tipo la terza alla quarta volta i feticismi di Zalta sì sì Zaltarius me lo vede è uno di quelli che scorreggia sotto le coperte e poi ci mette anche la testa per non usarsene Zaltarius schifo a me che c'è soppa da musica giustamente sì sì si dice ti crediamo Zaltarius te ne scordo me ne scordo di spostare il ventilatore comunque oggi ho dovuto mettere il cono al cane no perché continuano a leccarsi talmente tanto che si sta ah gli è venuto una specie di funghetto non so che cazzo ha portato un amo da veterinario e continuano a leccarsi lì sul fianco e su una zampina e si sta tipo scarnificando da quanto cazzo si lecca me lo faceva anche il mio cane e prima gli mettevamo la museruola solo quando gli mettevamo la medicina per questa cosa però gli teniamo la museruola mezz'oretta per far assorbire la medicina poi appena la togli e continua a leccarsi ad infinito mettiamo il cono qualche giorno che si risana la pelle il mio cane faceva la stessa cosa sulla zampa sinistra e quindi abbiamo comprato uno spray tipo fumoso tipo quelli a schiuma da mettigli sopra la cosa divertente è che quel coso ha un sapore orribile dato che lui la leccava in continuazione gli mettevo quello leccava un attimino faceva il disgusto smetteva di leccarsi quindi quando lo vedo che inizia a leccarsi si butto quello e smette di leccarsi geniale non ne sapevo niente totalmente a casa mi hai mai portato a scorreggiare e poi rendervi conto che alla fine vi siete cagati sotto? si forse però stavo male di stomaco del tipo oh no sto malissimo devo scorreggiare oh no non è una scorreggia oh no fuck però lì è quanto stai male scorreggio vestite eh comunque io sto facendo un discorso bellissimo sul come nonostante avrò mille persone che mi vorranno ospitare io sceglierò te sempre e comunque però nel senso se nel caso riesci a convincere dovresti avere mille persone che ti vogliono ospitare vabbè l'anno prossimo nessuno ti ama nessuno ti vuole fai schifo chi ti ospita in realtà è stata una scoperta gigantesca che due persone erano così invogliate oh Cesare buonanotte oppure scatena tua madre di solito funziona è una notte Cesare di solito funziona scatena tua madre è tipo ma babbo non vuole che ospite un tizio che ho conosciuto a cazzo di cane su internet come ti permetti non te la do per un mese no fuck Leo a me quando salta scrive Leo mi triggera ho una cosa si sembra tipo la fidanzata che ti dice dobbiamo parlare si no perché le prime volte che me lo faceva io avevo detto delle bestialità quindi ogni volta c'ho il Vietnam io quindi ho paura comunque non so neanche se più c'è Cesare forse aveva detto notte si ha detto notte ah beh non Cesare Gasser vuol dire va ha detto lui se non si così non è più vita privata così non è più vita privata che cazzo vuol dire che cazzo vuol dire scusa Gasser perché mi sono perso a dire puttanate guarda quanti messaggi hanno scritto la tua mamma di la tua mamma di Tifler la conosci si la conosco Leo Giulia fai anche te la fidanzata gelosa non ho capito che cazzo faci era divertente so che mio padre ha fatto un giorno e basta se non nulla non si discute peccato mamma ha detto finché non sto io e che non sto io va anche bene cosa vuol dire cioè se hai casa libera va bene ma se c'è tua madre non si può e poi che senso ha un giorno solo sì no ma cioè empatia generosità cioè che cazzo no più che altro capisco niente tipo non voglio strane in casa ma se ti va bene per un giorno secondo me è proprio una cosa che del tipo è così assurda che sento un eco da Ema 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 sei razzato la sensibilità a un botto perché mi sento Ema parla un po' io non lo sento Ema imploso vero grosso che per cose è però Ema se io mi ok è uscito Ema Ema so che per cose forza maggiore non si può Ema devi parlare per levare l'eco ma non sto ma per cosa dire no devi parlare così che il microfono si risensibilizzi alla tua voce sto bevendo il latte con la menta ne ho bevuto troppo ora mi fa male la pancia quindi devo stare tranquillo sì no stavo dicendo di come è una cosa così assurda e dice tanto non dirà mai di sì quindi faccio finta di essere gentilo ma poi glielo butto in culo una cosa del genere fai uno che hai conosciuto bene sì no che ne sai po che ne sai tutti di mia mamma quando l'hai conosciuta per la prima volta e ti sei innamorato a prima vista boom lo ghiacci no scherza è impossibile ghiacciare la gente che no poi sembra un coming out ok sì no evitiamo però stavo pensando però stavo pensato sinceramente di chiedere al mio amico Ivan se tipo nel caso tipo la prima notte appunto vengo a te e le altre poi vado a lui però poi sarebbe tipo starei con lui ecco sicché sarebbe un po' strano poi non so neanche dove cazzo è lui della Sardegna quindi sono tipo però forse gli chiedo di andare a lui a cazzo di cane però non lo so era bello il fatto che te gassero avevi detto sì ti ospito io perché mi sei simpatico se posso farti ospitare dormi dentro le chiesi di altri paesi beh potrebbe no sono stato bandito c'è un campo di forza la cosa stronza sapete qual è che dato che non è ufficializzato che esistono i superpoteri ma io non ho detto quant'anni ha 15 16 non mi ricordo dato che in questo mondo non sono ufficializzati superpoteri se vedete uno che si spiaccica sopra un muro dite perché si sta spiaccicando contro un muro invisibile e quindi io sarò tipo no non posso farlo vedere bla 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 perché dico supercaccio le così grosse ogni tanto ogni tanto mi inventesimo troppo nel nei personaggi che creo e parto per le tangenziale ma se al posto devi farti ospitare ok c'è uno in live che saluta in live al posto tuo potresti dormire anche per strada tanto che mi dà un giorno 30 notte anche 30 notte è pesante cioè già per me dirmi il viaggio 100 euro andate in ritorno sono lì che dico oh mio dio no poi il fatto che io ci sono un giorno intero a partire da Borgo fino in Sardegna quindi del tipo neanche dire una persona così da così tanto lontano per ospitarla un giorno ha tristezza del tipo neanche diciamo avessimo un giorno intero poi una notte poi un giorno no del tipo arrivo è notte e devo dormire e poi mi devo arrivare quindi sarebbe un po' mi fai cazzare ai genitori io non ce l'ho dal padre c'ho solo mio guarda che appena gli ho detto io vado in Sardegna e in Sicilia ah ok va bene picchia mi disp mon amour non però quindi ci si sono piccola vabbè sti cazzi l'anno prossimo dopo un anno cambierà tutto c'è mio padre che è estremamente forte quindi Cisera non mi può bidonare perché se no le interviene le mie vacanze vanno puttane ma lei ho filmato è molto rompipalle o non è molto rompipalle ma no adesso vabbè che quando avevo 15 anni io mi eravano appena inventata ma meno però ho conosciuto appena ho conosciuto ho iniziato a conoscere persone conosciute online e non ho mai fatto storia ospitare ve l'ho detto viene anche Zaltarius sta settimana ma come ha fatto storia vabbè che adesso ho quasi 30 anni sarebbe molto più strano se ti rompesse il cazzo se permette beh contando che comunque casa sua e che lei non lo conosce di persona neanche io ci poteva anche stare però però comunque sta facendo la cosa giusta nel senso a me mi sembra ci può stare ma vivi e lascia vivere in realtà io sono il doppio di me mi piega e mi usa come palla bowling però ho il ferro un po' sessista come discorso ma capirei più una ragazza di 15 anni se il padre dice no non lo ospiti è un ragazzo si 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 ragazzi è un ospiti è un amico poi figa Gaster è gigantesco cioè io sono io sono io sono sicuro che Gaster se vuole mi distrugge voglio partire per qualche posto a cazzo in Spagna e fare nottata sempre e dormire al mare di mattina devo solo chiedere agli altri se ci sono 12 ore di viaggio si per me tipo un botto per andare Livorno poi devo dal Livorno devo prendere il traghetto poi da dopo che arrivo al porto non so quanto altro tempo ci vuole per arrivare a casa di Gaster interrompe i tuoi sogni fantastici dipende se sta a sud o a nord ho già visto è quello è quello vicino quindi è Dolvia si mi sono quindi posso dire quindi posso dire che sono 9 ore di traghetto 2 ore per andare a Livorno 8 di traghetto quindi siamo a 10 più 12 ore ah è salta fuori che il gas è mezzo marocchino si no si sapeva poi te non lo sapevi io lo sapevo mi sono finalmente deciso di disinfettare i tagli del gatto ho usato l'alcol quindi mi funerà ma non dice anche l'Islam tipo dai da mangiare agli affamati e roba del genere si va bene ma non sono affamato che cazzo vuol dire ho capito ma c'è tutta vitalità e gentilezza verso il prossimo il fatto è che mio frate è un perché tu hai tipo di cultura di pensare è peccato no ma fagli vedere il video secondo me si mette a piangere distruggi tutto perché boh non lo so non lo so davvero è proprio la paracolata finale quel video no attento ma altro che no il cazzo il cazzo ho visto quanto costa no non le spendo tutti quei soldi per l'aereo con tutto l'amore che ti voglio puoi fare una nuova esperienza vai a pescare e vivi di pesca il problema è dove dormire non di cosa mangiare e ma non hai capito se no mi sto vedendo un sacco di video di burn grills posso costruire una casetta le ho la carica i campeggi non costano un cazzo ti giuro sì però però io vorrei andare in vacanza non voglio fare il gaminio ma non è il campeggio se non sei in una terra cioè se stai in un bungalow ho fatto anche quello non è così bello le ho la carica voi state scherzando però a me c'è stato il periodo in cui ci davano i pacchi di cibo una volta al mese sai che fa io a vedere solo che non capisce il mau il caritariano lo capisce che vuol dire che non capisce questo non lo capisce se no è tutto per tutto se non lo capisce amen prima vedi quando inizia il video perché tipo inizia a 15 minuti mi sembra e poi ma gaspa non può venire fino lì per stare un giorno no infatti dice gli faccio trovare un albergo però si perde anche quello stare insieme poi se io sto da solo in albergo sarebbe un po' cringe dobbiamo trovare qualche scusante quando lì se no fai coming out e dice siamo fidanzati a che punto potrebbe scaturire la reazione si potrebbe succedere si no non lo fare scherzavo aborto aborto le prometto che prenderò che mi prenderò cura del suo figlio e poi non torno più lì e quindi è del tipo te l'avevo detto di confidarti ma noi stavamo scherzando non si scherza su queste cose aspetta aspetta possiamo conquistarlo con una semplice parola cast tu 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 l'hai imparato l'arabo non sei una mazza se no potrebbe pensare che gli eri detto quanta è la differenza tra aereo e nave tipo diverse centinaia diverse centinaia con 100 euro faccio andate e ritorno appunto 20 euro di treno e una trentina di traghetto poi ritorno appunto lo stesso aereo mi costa sui 300 euro mi sembra solo andate quindi sono tipo no lo so lo so se forse mi metti no 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 non esageriamo non lo direi neanche per scherzo che poi se no ha ragione tuo padre a preoccuparsi di te non so te lo so ti insegno a dire grazie in arabo ma che beh nel mondo in cui c'è google translator arabo beh ho paura di dire una farola che non so che cosa vuol dire quindi non lo dico non direi un cazzo Eva cioè per il 2022 parola 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 insulto direi no ma non penso sia una parola penso sia anche tipo penso sia la parola di tipo grazie in arabo però non ne sono sicuro possiamo evitare di parlare in lingue che non conosciamo bravo pizza vabbè ma allora confonde comunque un parolaccio no non è una parola non credo ma che madonna è bella i diversi cittadini faccio tipo è indovinarlo tipo salame leccare come si diceva no quello salame lecum è saluto tradizionale e allora chukran vuol dire grazie shazilan e grazie ah chukran shazilan ah che minda non lo sapevo c'è qualche cosa in arabo il mao poi c'è sir che vuol dire vai yallah vuol dire andiamo inshallah tipo se Dio vuole i miei i miei neuroni hanno fatto contatto mi è venuta l'unica cosa che ho qualche parolina l'unica l'unica frase che conosco aspetta indovino inizia con la esattamente esattamente che io guardando raga io ve lo dico io oggi guardando i video di Beirut ogni volta c'era quell'esplosione io gridavo non gridavo però provavo a gridare a tempo quella quella frase perché sono scemo asta firula che dovrebbe dirlo zaltare comunque non è nemmeno un'offesa quella parola no però zitto sì ok no grazie gaster no mi dissocio è associato a è grande lo so ma non è associato a cose belle in occidente se la gente usa per minchiate non vuol dire ma così come le parole che che significano un colore ma che se le use nel contesto sbagliato ti uccidono non è una parola bannabile mi risulta ce lo dirà ce lo si esattamente anche se dici in quel modo se è decontestualizzato ti potrebbero nella prossima scenda ok sì sì regale quindi proprio bisogna giocare safe perché sì poi ci abbiamo la fortuna che appunto siamo 8 quindi siamo tipo ok vabbè no vanno le lettere tipo il colore non so vuol dire sulla e dovete che dovete usare i numeri amare io lo so perché in Marocco me lo dicevano spesso però la bugaste comunque non mi hai risposto se io il gioco lo copro se ci giochiamo sul tuo canale sono molto simpatico quando gioco sono molto diverso aveva detto ci scopri sono simpatico quando dormo il tono era questo quindi il poverino c'è il cane che cerca di grattarsi le orecchie e invece si ingratta il collare lo sto facendo io sono diventata una zampa posteriore di cane vedremo cosa è lì cioè fammelo sapere è l'inchia il vitere il viteremo è proprio il modo più palese per dire no però gentilmente io non capisco perché la gente non riesce perché non mi offendo non me ne frega un viteremo non lo so non capisco non capisco il viteremo c'è di cattivo gusto dire no no per il prezzo dico ok però forse su G2A G2A come si chiamava il gioco dimmi che ce l'ho ancora copiato ma è quello di cui parlavi che esce a settembre come tipo Takashi sui dai lo sto facendo c'è 17 dunque Leo provo a corrompere a mio padre in ogni modo magari se mi dici quanto hai in programma di storia forse riesco a lavorare qualcosa sono bravo a corrompere mio padre l'ho corrompere per farmi prendere un pitone quando all'inizio era un no totale quindi ci provo ma perché poi cedono è un umano in una settimana comunque sulla settimana comunque perché non è troppo e non è troppo poco del tipo possiamo fare un po' di cose tipo mangiare te lo faccio pagare 8 euro 6 plus è gratis te lo faccio pagare 8 euro ok va bene allora io sono ancora molto più io ce l'ho gratis plus plus è davvero una bella cosa io ho talmente tanti giochi gratis che non discarico neanche tutti anche io tipo su Epic Game Twitch Pass che altri cosa dove gli altri PlayStation Pass idealmente se lo puntasse Xbox Live Gold no Xbox Live è tanta roba tanta roba ho amicizie molto nati è vero che poi mi scordo che Zaltaris è idealmente uno di quelli che io mi dovrei tenere vicino proprio molto egocisticamente parlando dovrei proprio dire no ti dovrei fare il lecchino però non riesco a trattarti in modo speciale perché io io non considero la mia vita così importante quindi dico potrebbe essere importantissimo ma non ce la faccio quindi come ti tratto sappi che è il modo più sincero che potresti mai vedere non ce la faccio non ce la faccio a fare il lecchino non so se sarà difficile ma ci proverò dai solo perché ti voglio bene sulla settimana cinque giorni anche non digli una settimana digli cinque giorni e mezzo così lo confondi questo gioco è bello diversamente dalle altre merde che passano agli Xbox ma merde è un cazzo pizza passano di grandi abbiamo ah lo abbiamo forza abbiamo no no parlavo dei giochi che mettono gratuiti fra pass e Xbox tutti lo dicono che è il è da notare come io non posso parlare in prima pressione perché non l'ho mai avuto però tutti dicono questa entità magica e tutti dicono che è meglio l'Xbox ma sì ma è comunque la la play ha solo più esclusive e poi di servizi e tutto l'Xbox che è la cosa principale delle esclusive idealmente compriamo la console per i giochi posso dire una cosa hanno le cose che magari non gioca neanche online prende la playstation che gioca online devono compensare le inferiorità devono compensare le inferiorità no perché semplicemente si sono concentrati su cose diverse e comunque con l'Xbox ci daranno esclusive hanno detto quindi fottete perché così tanti follo oh no mi hanno battuto perché la gente proprio non ce la fa a farsi i cazzi su eh mi hanno buttato si evviva pc master race si poi alla fine comunque ragazzi sono estremamente fiero di me ho trovato un modo per cambiare le icone delle applicazioni un pc io ancora non ho trovato il modo di cambiare l'icona di twitch non me la c***o eh siamo a 400 siamo a 484 follower sono così felice eh eh mi hanno buttato ah vero che merda è la seconda volta che mi succede fra un po' lì andranno via già un'altra volta ah 100 follower tutti a c***o di c***o eh poi ti li tolgo io che vuol dire poi ti li tolgo io dove chi c***o sei chi c***o sei è quello che dico io sono scemo vai giù da lì prima di grazie ti voglio bene va bene io io non ci vuole non so più cosa dire leo.ex ha smesso di funzionare che poi mi ha detto che comunque è un questo Però c'è un modo per ogni cosa Ma vabbè vabbè Io Zalta se vuoi ti faccio un alterino Pago prima te di Giulia Un alterino Cosa? Cosa? Ho detto non sapevo cosa farmi con quei 70 euro 70 dollari Ti farò un pagamento di 5 euro Ne metto Paypal in privato E te lo faccio davvero Non ho la Paypal Eh allora Ti do l'Iban Ma che cazzo ne faccio i 5 euro? Simbolici Non vediamo me ci rinnovo il Prime Comunque sono a 49 dollari Che quelli sono Non euro credo Io provo a convincere mio padre Solo se leggi Telegram In meno di 15 ore Ah si ok Stavo facendo cose tipo Importanti tipo Che cazzo stavo facendo quella volta? Ah si stavo giocando ai giochini bellini Se vuoi puoi darmi così Ci finanzi di spacciato No Ci dissociamo Sì no ci però E meno di 15 ore Comunque l'avevo fatto No ma mi ero Mi ero messo Non mi ricordo se stavo Cazzo stavo facendo Però Ero nel mio momento In time Ero nel momento in time In pratica In cui stavo Mi stavo creando le cose Perché Dice un mondo bello Ok Perché ero arrivato Perché io c'ho dei giorni in cui Io mi diverto un sacco A prendermi Oh i manga Cose E Prendermi tutto un autore Scaricami Comprami tutti i manga E poi Metterli per autore Tutte cose Tagliando le scene brutte E E quindi Ci sto alle ore Oppure gioco a RPG I giochi Role playing Tipo come era Final Fantasy Ma in time Tipo ieri Sono stato fino alle 4 5 A giocarci Lo so che sembra Uno specco di tempo Però mi diverto Infatti ho fatto le seglie Giulia che mi Poco guarda Del tipo Cazzo Oh Jackie Posso farla Posso farla pesante Mi dai il permesso Giulia Posso farla pesante Come battuta No No Ma che battuta Di che C'è chi si diverte A giocare Ai giochini In Thai Ore e ore Che l'ho quasi completato Tra l'altro E c'è chi si diverte Ah Eh non posso Io no Perché Giulia Ma mi ha castrato Guarda Scusate E che C'è chi si diverte A mangiare Troiai come Ema dai Muttiamola così Che non E' un paragonese Ci vedete Ieri hai preso Il tonno in scatola L'hai messo dentro Una tazza per E ci hai messo Il pomodoro Ma non il pomodori Ci hai messo La pomarola Mannaggia Il cazzo Fredda Tutto freddo E sai lì che era E' buona No Mentre eravamo a giocare Zombie sai Dalle 5 di pomeriggio Mi è venuta un'idea Magari un po' estrema Comunque può essere qualcosa Poi te la dico più tardi Adesso in chat pubblica No Ok va bene Glielo esco Uno in scatola Sta per morire No Che poi Poi mi vede In realtà Oh ma sei risorto 3 anni Beh Hai visto i miei capelli Vado con la tunica E dico Io sono Gesù Grazie per la tua ospitalità Ti darò un posto Lì in alto Peccato È solo un piccolo problema Come dire Che Prima che No È come dire Farti la carbonara Un Cereali Uovo crudo E Parmigiano Come farsi una parmigiano normale Ma con cereali Al posto della pasta Crudo È quello il livello Che è Ema Tipo Io ho fatto Stavamo parlando Ho detto Ah si mi sono comprato Proteine Ah buone Lui mi ha fatto Io mi sono mangiato Un uovo crudo L'altro giorno Cosa Cosa devo fare Cosa devo dirvi Non sto scherzato Quando dico Che è un mostro Eh appunto Sono molto umide Appunto Sono molto umide Tipo Fatemi venire Che c'è Che c'è Che c'è Niente Schizzato Ok va bene Guarda pizza Gli blocco il telefono A mia sorella Oggi Perché è buono Lo so Perché però Mi Sono felice Mi sento buono Mi sento buono Salve Grazie Teoricamente c'è L'erritics Non si doveva sentire Però grazie Vabbè E invece Abbiamo sentito E invece E invece Vabbè No Ok Umiltà Sono una persona così umida Guardi quanto ce l'ho grossi Ma è piccolissimo Esattamente E ne vado fiero Guarda quanto sono piccoli No Perché ne vado fiero Ne vado fiero Poi sicuramente Sarebbe anche moscio Perché Non trovo Queste perversione All'uccello Ai mezzi africani Però 10 cm No 14 O dicevi il tuo In quel caso Non iniziate queste gare Per favore Ma per me Non è una gare Ma io non l'ho neanche potuto mai usare Quindi per me è inutile Io se non ce l'avessi avuto È come se È come se non l'avessi mai avuto Grande fiero No Che bello Così poco Che No ma quando hai un amico Che ce l'ha di 48 kg Capite che I vostri complessi Spariscono Mi dici Oh vabbè Tutti con fu C'è qualcuno Che c'era più piccolo di te Sei contento Ma a me non me ne è mai fregato un cazzo L'ho sempre detto Con orgoglio Potevi fare una risata E basta Sì e vai 21 misuretti L'anno scorso Ecco Scherzavo E poi Meno male che ho detto Meno male che ho detto subito Che non me ne fregavo un cazzo Se no qui C'era il pianto Bastardi Cercate di farmi I bait Io Ma come i miei amici Mi hanno fatto Ma te non te lo radi Ho detto ma nessuno Me l'ha mai visto Che cazzo me lo rado a fare Quindi sono tipo Priorità nella vita Priorità Eh ma non piace ai ragazzi Ok ma non è che vado Da ragazzi Io lo riesco E non funziona E non funziona E non funziona Io ho di quelli in generale Dai sì Però faccio un rollercoaster Ma cosa ho sentito E Io c'ho delle creppe qui accanto Però sono fredda adesso Sono un po' triste No Che schifo Aspetta Perché? Perché mi hai dato A mezzanotte Però non avevo fame Ed è caldo È un hot dog È un hot dog Ma di cosa stiamo parlando Ma io ora mangio Raga Che mi è venuta un po' di fame Mancia figlio Ma che snutellata Che ho fatto Mmm buona Poi la Nutella Raga Una delle sette meraviglie Del mondo Vabbè No io la rifugio Ma perché te Sei un mostro Te ormai Le tue papille Eugustatine Sono andate a puttane Come tipo Nelson di Space Valley Ma io La Nutella Non la sopporto È la futtivosa Di quello che non mi piace Perciò Un cazzo rosato È un cazzo bello Ma cosa c'è? Che? Io vedi in testa tua Leo Che qualcuno Ti ha abbandonato Che cazzo C'entra anche questo? Che cazzo Comunque ciao Ria Che cazzo vuol dire? Non ho capito Buongiorno comunque No non sono Mi ricordo di certi tromi Correlati al mio A mia età Ma perché T'ho tirato a parlare di cazzo Al mare Costumo abbastanza stretto Esco dall'acqua Davanti ai miei amici E quelli fanno Cazzo E ne mutando Una murena E niente Urlo Una bestemmia Mi aggiusto E me ne vado Al mio Madonna Che cazzo era Il famoso Alla legge Te lo metti intorno Alla vita Tipo Goku Con la cuoda Esattamente Cazzo 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 Quando era l'ultima volta Che stava qui E io penso Che l'ultima volta Sia stata La La live a tre Quella dopo Quella dopo Un'altra è vera Quella dopo Boh Sparita Giusto il tempo Di darmi il Il prime E poi se n'è andata Mi spiace un sacco Boh Che poi appunto Era proprio arrivato Al punto di darmi il prime Quindi non credo sia successo Boh Vai scrivermi Però mi sentirei Forse dovrei scrivere Perché non fate Sì esatto Io sono un Sayama Voi ancora Non lo sapete Stai attento Se vai a dormire A casa di gasto Se vedi saponette Per terra Non racconti Io lo so perché E se le buttassi io Mi ispira Però tu maesco Pari in acqua Ce l'ha raccontato Alla Vale Che non lo fare Perché il lubrificante Naturale Che sta nel corpo Va a puttane Quindi Tipo Gratta E fa male Perché tu sai queste cose Se sei vergine E io no Guardo molti porno Che cazzo Porno di qualche No scherzo No l'ha raccontato Vale Nel suo confessionale Uno dei migliori confessionali Tutto ora Giulio non svedare Le mie trappe Scusa Gasto Dopo che viene Bruccia Ma in piscina Perché c'è Il cloro Al mare Per il sale Non ne dà Fatelo Si può fare Pizza Dice che si può fare Io mi fido di Vale Non di te Merda Che levi sempre Il follo E lo rimetti Questo ti meriti Guarda C'ho 485 follower Non ho bisogno di te Ciao Like Caneki Oh Tu sei giovane donzella Ti prego di deliziarmi Con la tua compagnia Io Povero sventurato Qui Ho perso la via Per rubarti il cuore Mia madre Ero Grazie per il follo Non chiederti di colui Che a morti promette Ma piuttosto che osa Parlarti con frasi di re Perciò la mia dolce Metà Carina Molto carina Sull'artista Puoi aggiungerci Quello che vuoi tu Ma nel cuore Puoi esserci solo tu Cioè abbiamo un poeta Stasera Ma che bello Il poeta Del nuovo secolo Si fa al fiume Non c'è cloro Non c'è sale No no È lo stesso Perché il lubrificante naturale Uccide Uccide Io sotto la doccia L'ho fatto Ma non ho avuto Nessun problema Poi non so se cambia Di essere proprio immersi Nell'acqua Pressione dell'acqua Perché Se sei dentro l'acqua La pressione dell'acqua Spinge da tutti i lati Da sotto Da sopra È il lato E quindi è diretto Dall'acqua della doccia E cade da sopra Un cotto su un scientifico Oggi Pizza che fa Strana esperienza Ma perché state scrivendo Tutti col cap Ti dici che sia Perché Giurata di giuria Spero di no Spero di no No Io dice Comunque io so perché Vale non c'è più Giustamente per Unico motivo Perché Popo Sei arrivato a te Però mi rispiacerebbe Che Non mi sembra neanche Il tipo La tipa Poi non mi Deve Insultata No poi Il confessionale E' stato bello Poi ha giustamente Una live Magari però Ritornata altre volte Ha visto che c'eri Sempre te Ho detto Ok no Lei ha detto Che Basta Basta sverginare Il virgine Ho detto Vabbè Cazzi tua Ti sei perso Un provolone Come me No mi sono sputtato Addosso Che schifo Sbrodolina Non mi hanno accoltellato Cosa devo fare Prima di tutto Calmati Poi pensa Mi hanno accoltellato In un posto vitale In caso di sì Ti ammazzi Fine Basta Ti levi di culo Se no Chiami l'ambulanza Per non soffrire Tu stai calmo Tu dici Mi dissocio Ma lo capisci Leo Non è quello Non è quello Allora che cazzo è successo Dimmelo te Non lo so Cioè Sono stupido Regà Io non capisco le donne Non le capisco Mi spiace Non ne sono in grado Comunque si può Sì più o meno Non gli piace Questo nuovo Tipo di contenuto Tipo Bostate sempre a parlare Di solite cose Ma se abbiamo appena Cambiato il contenuto Sono un po' d'accordo Con lei Ma non abbandono Abbiamo cambiato Siamo family friendly Anzi era quello Che mi piaceva Anzi È grazie a lei Che sono ritornato A fare confessionale Perché mi ha fatto Una certa Siamo uscita con Ma non fai più confessionale Ho detto Che cazzo sto facendo Nella mia vita Sempre su Migo Mi ha detto Va fa un culo Migo E rincomincio Le confessionali Eh appunto Proprio Sì ma rivolgiamo Migo Non voglio essere ricordato Per quello Che merda Ma che giro Se non è per quello Ma ne sono sicuro Che non sia per quello Però appunto Sono curioso Se lo sai Scrivimi in privato Perché se non è per quello E sarebbe strano Se fosse per quello Cioè non strano Perché sì Vabbè Non ce la faccio Fare il finto figo Però Sarebbe strano Se fosse per quello Quindi Però non saprei Che cazzo di motivo Potrebbe essere Teoricamente Vabbè Coprendo tutte Visi E anche la voce Però Diverse volte Mi hanno detto La parola proibita E ho dovuto Chiudere la live Ed incominciare Non è stato bello Davvero mi metteva ansia Molta 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 ansia Però è stato divertente I primi tempi Io non lo so Ma credo Impossibile sia quello Ma anch'io Cioè 100% Per eventi esterni Ma sicuramente Ma nessun Sicuro Ma anche perché Si ha fatto La sub Infatti La sub Puoi sparire Ne siamo un po' Appunto O una cosa esterna Oppure un attacco Di gelosia Così forte Che proprio Non riesce Per stare Ma sarebbe Ma perché Non ha mai fatti Ma figura Non ci credo Questa è la parte Fantastica di me Che parla La parte illusa Dice Magari è perché È gelosa No Sei in minorenza numerica Questa volta Pezzo di merda Non ci illuderai Stiamo parlando Dio Ragazzi Quindi gelosia No Cioè nel senso Il mondo non gira Intorno a me E poi appunto Vale Quanti anni aveva Quasi 40 38 28 Sì Sarebbe un po' cringe Se fosse gelosa Di 21enne Perché in live C'è una 28enne 27enne 27 Sì Sì Infatti ogni volta Che pezzo Cazzo Ma io ho 27 anni Eh ma oh no Aspetta Ma non sei L'altra coincidenza Ora hai 27 membri Su Tele Perché Perché anche Emo ha 27 anni Non mi ricordo Quanti anni No è Magari Io ho 27 Muoio Sono quasi È nato il 27 È del 2000 Perché Hai presente la gente Che vede lo stesso numero Ovunque Se te lo sblocco Lo stesso numero Ovunque Ecco Lui Comunque È confermato Ma mia sorella Ci sente No Non mi piace Per nulla Non mi diverte Gioco un po' Overwatch Anche se ultimamente Sto giocando solo Ah E ma Mi sono comprato Il season pass Di Call of Duty Perché Ero arrivato al 100 Ho detto Vaffanculo 5 euro Li spendo È proprio Perché poi Poi Potevo Potevo Comprarmi Anche quello Dopo Quindi ho detto Ok Vabbè Che è una puttana Eh Ma sono arrivato al 100 Ho detto Vabbè Che fai Io non ci posso Giocare Spirocca Non fa una pena Povolta Guarda con gli occhioni Tipo Cosa mi fa O forse sono lei Sei lei Comunque Mi hai deluso Un po' Anche a me Rivoglio Le risate Su Meagol Mi dispiace Però Mi dispiace Per chi È arrivato Su Meagol Però Era una cosa Che ho fatto Temporaneamente Perché Avevo Bisogno di Cambiare un attimo Pensare che cazzo Volevo fare Perché non mi convince I confessioni Normali Perché Duravano un po' Quelle domande Duravano Erano sempre Le solite Mi annoiavano E poi Appunto Avevo Dopo il ban Ho sempre avuto La pressione Del Se adesso Mi bannassi Per l'altro Quindi mi cagavo Un po' sotto O Meagol E poi O Meagol Mi ha Davvero dato fastidio Le teste di cazzo E c'era Ma te fai lo streamer Iniziamo a Grilare A parlare La bannata A me Se Forse c'è qualche Una live su youtube Forse si è salvata Di Omeagol Ma si vede che io ero proprio Non ero tranquillo Io ero sempre con la mano sul mouse Sul Sul Cosa per mutare Il L'audio Perché io ero sempre in tensione Non riuscivo più a godermi I live Non ero più tranquillo Stavo davvero male Quindi ero tipo E ogni volta Dovremo iniziare La live Dovremo espanderlo Il format Tutto sul family friend Per carità Però Qualcosa Oltre Lo so Ma infatti Una cosa che volevo fare Infatti ti avevo detto Di fare Quali altre cose Si poteva fare Però Un po' difficile Secondo me Il fatto è che Le prime live Sicuramente Sono quelle che Devi farti un po' le ossa E devi Clappiare un po' il pubblico Con la tua bellezza E con E con la simpatia Però Appunto Sicuramente Le prime Non saranno Questi gran contenuti Inizio io stavo Editando in Thai Ma è Perché ti sei perso Delle cose Rio Ti sei perso Il Sbattere il cazzo Sul tavolo Quello era bellissimo Sulla schivania Sulla schivania Sulla schivania Quando ci stavi Era cringe Sì era cringe Quando Trovetei però Qualche d'uno È venuto Mi sono fatto Qualche follow E ci stavo Metti le fessioni Della drill Della drill Ogni tanto Stai ritornando Però Ragazzi Se avete qualche idea Che Si possa Applicare Senza rischiare Il ban Sparate Vediamo Sì No ma infatti Mi dispiace Un po' Per Omigle Perché appunto Era un modo per Trovare nuovi follower Però Quelli probabilmente Rimano solo per quello Sicuramente avrei dovuto Fare un po' Più gradualmente Tipo un po' Quello Un po' Quello Mi ha un po' Ho un po' Evitato di fare Un po' Quello Un po' Quello Perché c'era anche Giulia Quindi Volevo Spremere La mucca Finché c'era Quindi c'era Il Finché c'era Quindi ho detto Ma ci abbiamo Ci abbiamo Giulia Facciamo le cose con Giulia Quindi è anche per quello Che non ho portato Omigle Non lo nego Però Sì ma che finché Ho capito Cosa sia questo Mio È un Omigle È una chat Video chat Casuale Poi trovo Un sacco di Cazzi Eccetera Sì Esattamente Che Che Fino Ha fatto Scribo Stessa storia Ma Aveva Annoiato Io sono Una persona Che si annoia Molto facilmente Delle cose Perché cazzo Scrive Per Per Farlo È che Non lo so Copri La La webcam Dell'ospite In maniera Di vedere Prima te Sì sì No È così Che facevo È così Che facevo Perché c'è Delle persone Che hanno Detto Hanno Creato La parola Bannata Ho dovuto Chiudere Live Con L'ansia Oddio Mi vanno Oddio Mi vanno Cancellare Alive In tempo Record E Rincominciare Non era Bello C'avevo Sempre L'ansia Ero Sempre Lì Pronto A mutare Poi Quando Parlavo Con Uno E si Faccia Vedere Il viso Ero Sempre Lì Con Censura E per fortuna Non c'era Un pene Però Non Marmless Marmless L'ho Visto Non Non mi Funzionava Molto Bene Poi Non mi Convinceva E vai 60 Quanti 60 60 Mila Grazie Tu Non ti Immagini Quante Volte Hanno Detto In chat Mia Però Non sono Ancora Stato Bannato Un conto In chat E un conto La voce Eh C'è C'è Qualcosa Di Interazione Un po Scribble Era Quello Però L'ho Messo Un attimo In pausa Però Appunto Scribble Nessuno Più Lo faceva Beh Le ho Visto La nostra Storia Potremmo Portare Il gioco Dell'Elimpiccato Non so Se c'è Qualche Gioco Dell'Elimpiccato Online Scribble Questa È stata Rattiva No ma Lei Lei Sì Lo so Lei può Lei c'è Il pass Ma finché Sono due Che hanno Avuto Questi passati Lo possono Fare Quando Dico Niente Venta Un po Grigio Esatto Gli altri Non Pass È Il pass Esatto Il pass Merda Multiplayer Online Gioco.it Gioco.it Non c'è un cazzo Online gratis Sì Ok Vabbè amiche Carte e penna Ora non è che dobbiamo Far tutto Dici tale Che pavale Che sia Devo Chiuse Dici Carte e penna Foglietto Oddio Si potrebbe stare Ti prendi La Vabbè Si chiama Essere Femministe Di la verità Non ho capito A cosa Ti riferisci Ce l'hanno Su con questo Mar Sì No Ce l'ho anche Scaricato Riga Marvel Eventualmente Ne parliamo Su Su Disco Vedere un po' Stacosa Poi Out Live Sì No Mi stava dando Problemi Che la gente Provava a fare Il comando Per entrare E non funzionava Ma Tipo Bellissimo Intanto Lo apro Devo Devo Levare Un attimo Dai ma Il gioco Del Impiccato È proprio Bello Poi Primo Che fa 100 Punti Gli insegno A fare Un cap Eh Ovviamente Alle 2 E 30 Quando Faccio Altre Cose Io Sparesco Perfetto Posso Scaccolarmi Dai eh Ti ricordo Io ti vedo In fullscreen Tra l'altro Aspetta Qua Ecco Perfetto Me l'autodedico Che schifo giusto Allora Questa è una cosa La posso fare La pipì O vi fa schifo Pipì No ma Ma le ragazze Non fanno Eh esattamente No no vado a fare Eh Che stavo dicendo Comunque questa è una stronzata Tutti si scaccolano Sono sicuro al 100% Perché certe cose Non le puoi levare Soffiandoti il naso Dai la pipì La posso fare Ti ricchi i dita La guardi solo a metà Anche quando ti scaccoli Esattamente Basta Vado a fare la pipì Dai c'è Giulia Sto facendo tantissimo No Cosa è il Marple È quello che avevo provato Un po' di tempo fa 31 minuti Di aggiornamento Che cazzo è successo Prizze Connessione Ah Beh lo so Mi aggiorni Marple Ok lo sto aggiornando Ah 230 mega easy Se è lago Sapete perché Tra 20 minuti Ci centriamo Tra l'altro C'è anche la scremata giochi Quindi buono Hey brother Streamlapse o VBS Streamlapse Più comodo Più comodo C'è VBS Però più comodo così Sì Cioè In chat vocale In chat scritta Non credo Però te lo Nel caso te lo cancello Il Il Credo Poi Zalta Mi Mi corregge VBS Chat tossica Quindi Fino a che Non Non diventa Un chat Solo Con quella parola Uno potrebbe Anche andare bene Però nel senso Poi Appunto Mai dare Il via A nulla Che non vuoi Continuare Ma arriva La mia migliore amica In tira Ok Non ci provi Che ti ammazza Siamo sicuri Che non sarà Lei a provarci Come Sei sicuri Di volerla Portare Guarda che Femminista Come femminista A parte Si A parte Si Sono Sono più Sul femminista Io Ma perché Credo che Siamo in una situazione Di disparità In cui Bisogna dare Più importanza Alle femmine Quindi appunto Perché essere femminista E non maschilista Perché appunto Siamo stati maschilisti Per secoli Quindi bisogna Un po' Ribilanciare le cose Ecco Giulia Il suo faccione Ci ha già messo Full screen Perché Sì vabbè Non so Che poi Non è un Un insulto Dire femminista No Leo sei un simp No Probabilmente un po' Lo sono Che dolore No Io un simp Ah Beh il fatto è che Quando c'è qualcosa Che non Che non Con cui non interagite mai Che magari vi interessa Ovvio che poi quando C'è Gli date più importanza È la natura umana Tipo Uno vuole la play Da anni e anni e anni Gliela compro Si trippa la play Sei paragonando Una ragazza A una play No Uomini Ammettiamo Simp lo siamo No c'è Allora c'è differenza Fra i simp Che sono quelli Che Ma sei bellissima Tesoro Tipo Oggi Più di Pai Ha fatto uscire un video Sul Subreddit Dei simp Che è fantastico C'è proprio Bellissimo C'era tipo Il fidanzato Che face C'era La sua ragazza Si era vestita in un modo E aveva fatto una foto Dicendo Mi sono vestita in questo modo E il mio ragazzo Mi ha detto Che assomiglia a questo Cosa orrendo E tutti Nei commenti sotto Ho fatto No sei bellissima Andare a ascoltare Quel pezzo di merda Lei dovrebbe Prenderla a calci in culo E poi lasciarlo Cose del genere Quello è essere simp Non trattare bene Ragazzi Perché è sconvolta È una sconvolta? No aspetta Non sono sconvolta No Anna Giulia Ma io Mi sono persa Mezzo discorso Perché era in bagno Quindi non sono Ma in realtà Non abbiamo detto Granché Mi è stato solo Dato di femminista Però Femminista Non è un Non è un insulto Comunque A me queste ragazze Che si autoinsultano Per sentirsi Fare i complimenti Boh Io le mie amiche Quando se ne uscivano Tipo Sono grassa Ed erano Non dico Non restite Ma Per me Sottopeso Io Sì Sei veramente obesa E ci rimanevano male Perché lo dicevano Palesemente Per sentirsi Fare dei complimenti No amore Non sei Non sei grassa Sì Sì Non sei grassa No ma sei perfetta Io quelle cose Non le capisco Sì No La peggio Sono quelle Che mettono i posti Su Instagram Sotto Dovano dire Tesoro 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 cosa? Porca puttana E mi spacchi La sedina del gruppone Boh Sì lo sei Seppure c'è il suo pedale Un raito Con tanto di sputare un occhio È la batona Senti scusa Ma c'ho scritto Squoglio in fronte No Eh allora Staccati Cozza Così a bruno Io pensavo stessi Per dire Se fossi un ragazzo Sarei di una bastardaggine Una udita Sai cosa stavo Pensavo tu stessi Per dire Ti sembrano Ti sembrano scoglio No Allora smetti di schizzarmi addosso Ma quello non è cattivo Stavamo parlando di essere cattivo Eh lo so Però invece Ho smitto il cranio E ti caldo ancora Mi faccio venire i muscoli Al buco del cuo La forza di riflessione Ma cazzo c'è il volumettivo Un attimo Giogatti cosa c'è È un piede Non mi alzannare i piedi Scemo di un gatto Full metal Giogatti C'è il peccato I scena apparecchi sugli obesi Però mi evito di dirle Sì bravo Sei bella Ti puo un po' di scegli Cionissimo Che è venuto a trovarci Cionissimo Cionissimo Ah che bello Io ce l'ho già E non ci ho mai giocato Sì Sì Dove devo andare Per la selezione della mappa Community maps La retina Riuscite a capare le zanzare al volo O è un mio superpotere Ditemi di no Le zanzare al volo Sì ci riesco Faccio così Ta Io mi sentivo un cazzo di ninja A fare Ti sentivi tanto Tizio di Karate Kid Che figlio Le bacchette Esatto Sono ingrassato Posso richiedere Ok Pensavo Che sono scritte cose Vi è mai capitato Di schiacciare una zanzare Ed era già piena Che schifo Sì Lo sai non mi è venuto Di dubbio Però non credo Possa essere quello Di un altro Perché di solito Le zanzare Fanno un carico E basta Perché pizzicano Più di una volta Vabbè Cioè A me è successo Sul muro di Leo Infatti c'è un segno Indiretile No L'ho verniciato Quell'affare No Il bello Che poi si è messo Con la spugnetta A cancellare Il problema è che È andato via il muro Quindi c'era il buco Una cosa Collega l'account Twitch Sì l'ho già fatto Eh Già fatto Profilo Stream Bravo Setting Poi random Map Cioè Ho tutti Gli animali Della casa Qua sul divano C'è la minula Viola Socrate Jack Morgana Lì sono circondata Sembra tipo L'ultima cena Ma con gli animali Quindi c'è La dea gatta Il dio cane L'altro dio gatto Permetti Punto Schiamativo Play Vediamo Perugina Vediamo Non succede La Vamos Alla plan Che m'hai levato in via? Perché vanno via? Cioè nel senso c'è Play Pizza E poi Mi va via Cioè ora Vabbè vi mostro le cose Giochi Prova Prova Buongiorno Che cos'è? Figgo Fate play Mi raccomando Ma posso Ehm Marble Che devo fare? Nulla Letteralmente Nulla Io ho fatto play Ma non succede Nulla Eh perché Ehm Ehm Tranquillo 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 Spatico simpatico cosa devo fare? si ok se non devo fare nulla che gioco non è quello delle falline vero? l'audio del mic non va solo su una scena ma io faccio schifo a sti giochi o sfiga vai a pallina vai a pallina oh no se si ce la faccio un lato ma non ero ultimo ma non ero ultimo ma bisogna fare qualcosa e vai 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 pallina cazzo si si aspetta vinco io cazzo corri porca buttata ma ma come camera devi stare sulla prima posizione e basta fidati vai slot per il podio pizza sta barando non vale ma come a me vanno sono cose no no che è sta storia ragazzi sono rimasto impallato la mia pallina è morta ma che cazzo ma che cazzo come non esista ma che cazzo ti ero convinta ci credevo no perchè la mia pallina è morta perchè la mia pallina è morta è morta seconda sono forte cosa vinco a posto a posto Leo il mic. Perché il mic? Cos'è il mic? Io ti sento. Anche Pizza ti sento. Zoltapius dice che non ti si senta. Ma Pizza dice di sì. Casino. RITX Voice. Ah, ecco. Eccomi. Buongiorno. Lo ributtamassi. Ok, dai. Fate play, mi raccomando. Credo di averlo già fatto. Lo vorrei fare? Ma no, no, no. Se l'hai già fatto no. Perché siamo 5 invece che 6 come prima. 6, ok. Possiamo andare. Ecco, Zata. Bastato che non fa play. Io ero mutato. No. Tristezze. Allora, intanto non so dove sono le palline. Ah, eccole. Che se non vedo i nomi. Perché non vedo i nomi? Perché si è buggato? Vabbè, non si vedono i nomi. Bella, rega. E vai, sono primo. Ui. Fermi tutti. Potrei essere primo come ultimo. Che tra l'altro c'era anche un'altra strada super citosa però. No, comunque in alto a destra c'è scritto i nomi. Quindi boh. Non so, ho toccato io qualcosa? Leo, non sono strada super citosa. Sono uguali. Sono simmetrici. Mmm. Mmm. Comunque primo sono io. Sono primo. Poi c'è Zalta. Ok. Io vedo che continua a spiegare. Io vedo la mia pallina. Ecco, porca madonna. Zalta e Giulia sono primo. Dove sono finito io? No. No, ero primo. Eh sì, c'è un po' di ritardo. Sono primo. Sono primo. No, porca madonna. Si capisce un cazzo perché con te è il punto più vicino. Quindi mi sa che ha vinto Zalta. Finché non faccio la curva sono primo. No, si sono tutti impalati qui dentro. Oh mio Dio. Potrebbe vincere chiunque in questo momento. E ha vinto Ema. Oh mio Dio. Ho vinto? Secondo Zalta? Sì, ho vinto. Giulia? Gaster? Io ultimo. Perché? Dove è la mia pallina? Leo. Eccolo. Cioè, guarda dove sono. Ma poi. No, non andare. Leo, la tua pallina mi sa che è implosa. No, qui sono cinque i miei. Ah, ok. Ecco. Grazie. Eccolo. Ecco, mi incastro qui e non arrivo. Dai Leo che ce la fai. Dai Leo. Dai che ce la fai. Perché sono sempre l'ultimo? Perché la mia vita fa schifo? No, ma questo è la mia vita. Io sono sempre l'ultimo. No, metti il coso boost. Vai, fate play. Non ti piace Giulia sto giochino? No, ma... Può stare. Anche se, insomma, riguarda la percorso dei cavalli. Non puoi fare nulla in questo gioco che altro. Se il gioco fa schifo dice pizza. Ma infatti avevo visto e ho detto, ah, carino, però, boh... Carino, se ti stai annoiando da solo, è tipo come quando inizia a contare le goccioline sul finestrino e fai, vai più veloce, corri. Esattamente. Che fai, non posso... Oh, ma sono primo di nuovo, è incredibile. La pallina è accettosa. Se non funzioni, comandi, ferraggio, banzai, è letale. Chi sarà primo? Allora, Emma sembra primo. Dov'è la mia pallina? Perché sono sempre l'ultimo? Sempre così tanto ultimo. Non è possibile. Vai, Edited. Dai, pallina. Guarda se è bloccata, ma porco. Vabbè. Guarda, sei bloccata! Non ci posso credere! Ma dai, ma che vita... Guarda... C'è un altro... Dai, guarda in cima. C'è un altro che facciamo spawnare dei mostri e tu vai avanti nel gioco. Ah, quello può essere già più carino. Ma pizza è fantastico. Ah, bello. Quello ci sta. Pizza, sei un egoista. Aspettaci. C'è? Cosa c'è? Vi bloccate anche voi? No, mi sono bloccato. Perché è arrivato Zalto? Dai! Guarda che... Che vita di mezzo. C'è pizza... Dov'è finito pizza? Ma siamo proprio sicuri che il comando bossa non esiste? Perché pizza continua... Ma mi sa che pizza è tipo... Mi sa che siete caduti. Siete caduti di sotto, regà! Sono l'unico in vita! No, c'è Zalto dietro! Oh mio Dio! Colpo di scena! Chi va piano, va sano e va lontano! Oh my God! Oh my God! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sei... Sei vinto! Sono arrivato primo! Tutti morti! Ho vinto per mancanza di giocatori. L'unico modo in cui posso vincere uccidendo tutti. Ok, va bene, ho capito. Perfetto. Va bene, regà. Ora facciamo una bella cosa. Facciamo una votazione e decidiamo se vi fa cagare il suo gioco oppure no. Sì, sarebbe bellino se potessi incidere in qualche modo nel gioco, ma non puoi fare un cazzo. Sì, è messo così. Ad cazzo. Potresti sfruttarlo se c'è, che ne so, chi vince nel giochino, fa questo, fa quello. Che cazzo. Lo potresti usare come una cosa casuale, tipo... Parando.org, fai pallina.org e parti... Sì, è totalmente casuale. Abbiamo visto che te eri ultimo, ultimissimo. E sei arrivato prima perché sono morti. Oddio, idea. Sì, sì, è stato bellissimo quello. Stavo felice. L'unico modo in cui posso vincere uccidendo tutti. Io ho il flashback del 40. Mettiamo l'età di... Ti scrivi in privato. Va bene. Però io ci sto ripensando un attimo. Forse lo faccio il lecchino. Che so. Non l'avrei detto ad alta voce se lo vuessi fare davvero. Appunto, scrivete un po' il codias. No, ci scherzo. Ci scherzo molto. Però... No, sfruttare l'opportunità. Però... Però... Di sicuro non ci sputo addosso. Ha pochietto perché non ha una persona di merda, quindi... Il senso. Allora... Quindi è una brava persona. Ti voglio bene anche io. Sta diventando cringe. Stacca, stacca. Sì. Allora, è un sì, due no. Quindi lo rifaremo. Comunque per ora diciamo che vince il no. Devo andare in bagno. Scusatemi raga, io... C'era un altro giochino che avevo visto in una live. Delle macchinine? No, no, con degli omini facevano una sorta di nascondino. Ci scrivono il priato fatto? Ah, ok. Non me lo ricordo più. C'erano degli omini tipo astronauti facevano una sorta di nascondino. Non è bannato? Allora, sì, forse lo porto. Allora lo porto, che c'è anche il due. C'è tipo il test delle fragole e l'ho preso da lì. Io l'avevo iniziato, super seduce. Regà, mi porterà super seduce. Appena Giulia non c'è più, che almeno posso fare cose un po' in più in singolo. Vabbè, ma se devi fare cose. Ripeto. Disfrutto. A parte che c'è venerdì, quindi ormai siamo a fine. Cos'è? Eh, vero. Sì, infatti. C'è la penultima. Non so, cosa facciamo venerdì, quindi? Facciamo un confessionale, facciamo qualcos'altro, ci facciamo venire qualche idea? Secondo me possiamo fare quell'idea che ti avevo detto. Secondo me almeno una cosa la troviamo in cui possiamo discutere animatamente. Certo. Capito. Delle due tesi. Delle due tesi? Ciao. Io non mi ricordo, non mi ricordo cosa ho mangiato ieri. Quello del io porto un'idea, porti il contrario e quindi stiamo a dire no, secondo me è così, no, secondo me è così. Ah, trovare qualcosa su cui farci dissing uno con l'altro. Già. Se troviamo qualcosa. Un gioco su come relazionarsi con una lei con scelta. Di poco assurdo. Magari gli argomenti, le tematiche ce le può proporre la chat. Secondo me, secondo me dobbiamo iniziare con qualcosa. Del tipo, proprio portiamo un argomento magari forte in cui diciamo, comunque, due no e un sì. Se giochiamo a nascondino... Beh, mi sembra molto bello in casa mia che sono cinque metri quadrati. Più c'altro, giochiamo a nascondino. Oh no! Devi tenere anche la webcam in camera, quindi Leo dove si sarà nascosto? Dove si sarà nascosto, Leonardo? Sopra il letto? Sotto il letto? Sotto la scrivania? Sopra la scrivania. Basta, poi ho finito i punti in camera mia perché sono qui. Sopra gli attrezzi per l'allenamento. Basta, poi ho finito, va bene. Fuori dalla finestra. Appeso così. Questo è di nuovo in webcam. Giustamente me ne scordo di dire. Vai tranquillo, io sono sempre presentabile. Anche mentre ti scacoli sei sempre presentabile. Sì, sì, sono bellissima anche mentre mi scacco. Proprio mi amore. No, non tipo quello. Tipo cose interessanti. Sono sessuali, giochiamo a nascondino? Va bene, se non ti trovo... Perché? Non ho capito. Che senso va? Per farsi trovare, ma potrebbero farlo anche due etero. Non capisco dove la battuta gay. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Esatto, ogni tanto si nasce con queste battute che... No, non è stessa di coda e quindi sei tipo... Ok? Non dovevi fare sì. Ridi. Ok, no, ora l'ho capito. Ora l'ho capito. No, no, no. Io ti capisco. Aspetta, mi stanno chiamando. Aspettate, devo... Torno subito. Non avete leggero la mia battuta? Che hai detto? L'unico modo in cui posso dire... Sì, no, quando? Cosa? Sì, no, eh... Ah, era una battuta quella. Ah, ok. No, non è quel 6. Ok. Per me no, objection. Ma tipo una cosa in cui... Buono, lo so. Ci dobbiamo pensare. Ci dobbiamo mettere. Io e Giulia... Ragazzi, se volete faccio il tutorial make-up. Eh? No, Giulia, per piacere. Piuttosto mi ammazzo. Anche io. Anche perché non so se hai notato che trucco elaborato che porto. Ma il nulla. Ma io apprezzo, tranquillo. Non mi cose città, io c'era il sito. Che funzionava. C'è. Però fa cagare. Eyeliner, mascara, basta. È brava. Brava. Oggi c'era mia sorella che si è messa il coso qui, ma tipo non prendeva la forma dell'occhio e quindi faceva cagarissimo. Tipo l'ho guardato e ho fatto... Che cazzo si è messa in faccia? Levatelo subito. No, vabbè. Massimo, proprio estremo di trucco che posso fare è coprire le occhiaie. E battita, eyeliner, ombretto, mascava. Eventualmente rossetto. Ma tipo se proprio devo andare in discoteca a fare la strafina, ma andare in giro, basta. A me fa un cagare nero il rossetto. Proprio fa cagarissimo. C'è una merda. Dipende, cioè a chi può stare, a chi no, insomma. Poi il colore, mica colore. A me sta bene. Se mi vedevi al liceo portavo il rossetto non nero, ma quasi. Perché io in testa c'ho solo il rossetto rosso? Forse è quello che mi devia. Penso ai puttannoni dal combattimento. Guarda, Giulia, se posso truccarmi come Mary Manson e i keys messi assieme, voglio vedere chi c'è. Beh, oddio, come Mary Manson no. Però non andavo al liceo, facevo il trucco, Dark. C'avevo tipo le puntine sotto qua. Io sono tentato di mettermi il mio smalto. Il rossetto. Davvero, pizza. Non so neanche dirlo, era un viola, ma era quasi nero. Cioè, era proprio viola scuissima. A me mi vado a distruggire la casa di Giulia su Grounded. Cos'è Grounded? No, zalto. Madonna, ti sfocco le ossa. Ah? Non c'è prova. È online? Ma come funziona il suo gioco? Non mi fa il ripreso. Non mi ispirava. Non è il survival, diciamo. No, è carino. Simpatico. Come hanno detto qui, due sul server. È The Forest. Col make-up. No, come avevo detto. Però con più bug. Prezzo ma smalto. Cioè, dai, che schifo. Madonna, ripreso. No. Perché? Lo smalto ci sta. Tipo c'è la mia amica Giulia che si fa degli smalti fantastici. Cioè, anche con le unghie tutte diverse. No, allora. A me fa... Ecco, appunto. A me fa triggerare quelle che stanno a fare i disegnini. No, non disegnini. Quasi molto semplici. Sempre i cementi colorati diversi. Che se ti apriva la settimana intera. Non lo metto quasi mai. Beh. Ah, te lo metti tipo sulle... Sugli occhi, tipo. Hai detto non su... Sui diti, no. Esistono i piedi? Ah, quindi sui piedi sì? Mi sembra ancora più... Esistente sì, i piedi dura un sacco. Sui diti, dopo due giorni, lo devi rifare. E io, cioè, non ho voglia di andare a tagliarmi i capelli una volta all'anno. Figuriamoci di mettere lo smalto in mezzo. Come ti capisco, sorella? Cioè. Io non so, saranno 4-5 anni che non vado alla parrucchiera. Brava sorella. E da più di un anno che dico, devo andare a parrucchiera con un sacco di doppie punte. E ancora non ci sono. Ehi, ma dico la stessa cosa. E poi è anche gratis il parrucchiere, perché è un cazzo di amico di famiglia, quindi non pagherei neanche. Ah, minchia. Non sono lo spatti di prendere e andarci. Ecco. Io ci sono dovuto andare a parrucchiere, quando c'avevo il dito rotto, per farmeli lavare i capelli. Perché appunto, con quella cosa, col gesto, non potevo lavarmi i capelli e con tutti i capelli che avevo, avevo bisogno che mi venissero lavati bene. Quindi uscivo che erano tipo leggerissimi, erano proprio... Me li lavava mamma. Sembrava che me li avessero tagliati a quanto... Eh, no, io... 5 euro mi prendevano. In un mese ci sono andato due volte a farmi lavare i capelli. Ma a me lo smetto fa proprio schifo addirittura di questo, soprattutto sugli uomini, non però... Oddio, sugli uomini non... Non so, a meno che non sono tipo drag queen o qualcosa del genere, però... Lì però, secondo me, dovrebbe essere sdoganato. Secondo me è una di quelle cose che dici potrebbe essere una figata. Perché secondo me... Perché Zalta se ne deve uscire con queste cose? Frisco alto, rifiuto e vado avanti. Provata ma niente di che. Va bene? Sì, è venuta. Va bene. Cioè... Comunque Zalta questa è cattiveria, ora te lo dico molto in amicizia. Perché ogni volta che dici, ah dovete provare questa cosa, io dico io neanche ho sgomento. Sono tipo, eh, va bene, proverò. Non era quella giusta. Eh, averla trovata io una. Anche sbagliata. Ti sei mutata di nuovo, comunque mi sa. Ragazzi, io abbandono, sto morendo di solito. Cioè, ti ho sminchiato di nuovo gli orari e vai. Ci sei domani, da. Eh, domani. Non fare tardi. Eh, non ne so. Sarà un po' difficile. Vabbè, buon notte tutti. Notte. E che l'orecchio è... Però, niente, Discord ha deciso di non collaborare stasera. Eh, che merda. Non mi fa conto. Cioè, non... Stiamo a capire con le asceni. State degenerando. È andato via Emma? Sì, è andato via Emma. Oh, che male. Perché stava morendo di fondo. Oh. È passato da... Non ho dato perché mi si era sminchiato. Passato da andare a letto alle 10 a essere ora qui alle 2.40. Proprio Chris. Già ho fatto un F bella grossa. Ho il raffreddore. Bello. Parla un attimo, Giulia. Prova, prova, mi provi. Ok, ok, ok. C'è, c'è. C'è, c'è. C'è, c'è. Vabbè, tanto di 5 volevo dissociare. Se volevi dissociare. No, veramente, ragazza, con il piercing sulla tua lingua non l'odio. No, l'odio. L'odio. I piercing... A parte a me mi danno fastidio i piercing in generale. Ma i piercing sui posti strani, madonna, l'odio. Mi fanno un'impressione. Ma tu non devi pensare da vedere. Mi dà fastidio. Se ce l'avessi sulla lingua e metti casola, dovessi baciare, avrei sempre la paura che strappassi, che strappi tutto. Avrei la paura completa. No, no, mi danno un fastidio. Tranquilli, lui è quello che toglie i semini dall'uva. Teniamo a mente questa cosa e il resto viene da sé. Non è così strano togliere i semini dall'uva, eh. Ma io sono... Ma io sono molto precisino con tutte le mie cose. Guardate come... Sì, io forse un giorno lo farò il piercing sui palini. Buon per te. Buon per te. E poi verrò in dive a fare... Guardate come tengo i biscotti. Cioè, proprio con la presina, chiusi a tre. Cioè, capito? Io sono questo tipo di persone. Cosa c'entrano i biscotti? Perché è la mia vita. La mia vita è tutta così. Tutta... Perfezionismo. No, una rottura di... Giulia, sei racista. Anche io levo i semini dall'uva. Perché ho l'angoglia intera... O mi ammazzo. Ecco, visto? Non è strano. Ma ragazzi, ci va semplicemente quel tatto da non mordere tanto da rompere un seme. Cioè, la consistenza del semino e la consistenza della polpa è ben diversa. No, ma è bello proprio l'uva distruggela. Può prenderla in bocca e... Addio, mi sono messo al pc. Addio. Ma non lo devi accendere il pc alle 2.40. Cioè, questo è basochismo. Io, c'ho la scusa, vabbè, ero già al computer dalle 9 a giocare a quel giochino. Dovresti andare a dormire. Eh, esatto. Non ci caga più. È già andato. Cosa? Chi? Chi? Io? È sempre acceso. Sì, ma vai a dormire. No, a saltare. È sempre acceso. Come ti capisco. Perché dimetti che ti serve? Che fai? Ma quale dormire? Ma quale dormire? Fermo, che fra poco devi andare da Giulia, che se no sei un cadavere. Infatti. Ribilanciati via. Mi piace lo svegli. Appunto. Poi dormi poco. Ti gira il cazzo. No, dai. Donno me. Fra poco mi scoppia il cervello. Lo dico per te. Ci tengo. Perché devi dormire, vedi? Fra poco mi scoppia il cervello. Ma siamo preoccupati per te. Quello. Comunque. Jack, Dio. Visto. Visto. Guarda cosa hai scritto. No XK. Cioè, visto? C'è i neuroni che stanno per esplodere. Si stanno autodistruggendo. Arrenditi. Come hai dormito? Hai dormito nel pomeriggio? No. Chi? Persona. Saltarius. Ma dove hai letto? No, perché ho dormito troppo. Non è che abbia dormito tanto. E quindi, ecco lì. Sgamato. Madonna. No, perché ho dormito troppo. Le botte. Perché non l'ho visto? Perché non l'ho visto il messaggio? Capaccioli. Piliati un bel tè. Rago, ho bisogno della ragazza. Il problema è che sono... Che solo i simp prendono le... No. Espronenti. Non è vero. I simp, i veri simp... Spermizzate la cosa simp con fare un complimento sincero e sentito. Anche perché... Abituati a fare i complimenti anche maschi. Non è che non deve fare nessunissimo complimento altrimenti è un simp. Buttati anche sulle cuore. L'esperienza personale danno gusto. Non lo so come lo devo prendere. Forse per maniglie dell'amore. Non lo so. Non lo so come sei. Gasser, abituati a fare i complimenti anche ai maschi. Poi non ti sembra strano farle... Fa set per un centinaio di chili. Quindi per lui una curva e rimane comunque mingherlina. Però assicurati di aver letto buono. Sì, mio mamma è letto. Però, ehi! Il mio problema è a monte. Se non fosse che non conosco ti... Ne ho fatti fuori due, è la madonna. Ma quelli non sono curvi. Quelli sono... Balenottere, azzurri. Con tutto il rispetto, eh. Capodogli. Capodogli. Dei trichiechi. I trichiechi sono bellissimi, raga. Quindi se io dico che una ragazza è un trichiechi, Complimento. Sappiatelo. Sì. Sono belli i trichiechi. Ora immagini di trichiechi. Trichieco. C'è stato un periodo in cui ogni tanto aprivo Google Immagine e mi mettevo a guardare i trichiechi. Mi danno felicità. Oh, sì. Magari è il tuo animale totale. Mi dico i complimenti che fanno agli uomini sono solo ai bro. Nice cook bro. Vabbè. Quello era un complimento testa di minchia. Abito a te fare... Abito a te fare... Abito a te... Perché se fai i complimenti ai ragazzi sinceri, dei complimenti in cui... Ah no, grande hai fatto sta cosa, oppure ti stimo, oppure... Che figo. Tipo guardare i maschi per strada e dire ma quello è un bel figo. Ecco. Abituarti a fare così, a sdoganare i complimenti, ti può aiutare anche a fare dei ragazzi. Poi nel... Poi io faccio la fatica di minchia. Ti dici ai ragazzi che guarda quello che è bel figo. No, lo dico in mente. Se vedo un bel figo dico ma che figo. Giusto per sdoganare sta cosa del... Non è strano pensare che una persona sia bella. O pensare... Che cazzo ne so, che abbia un bel carattere o che abbia fatto una bella cosa. Quello. Mettere il materasso a terra. Madonna. Ho fame. Io gli fai i complimenti così al random. No, 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 al random. Cioè è una ragazza che gli vai addosso e gli vai addosso. Gli vieni addosso al massimo, però... Gli vai incontro. E gli fai... Che begli occhi, a cazzo di cane. No. Tipo stai cacchierando. No, no, no. E gli fai i complimenti. Poi io gli faccio cagare. Cioè nel senso. Da che pulpito però nel senso. La teoria io sono a dieci. Credo. Io fai la nera, madonna. Freddire in mare c'è di mezzo un mare proprio. Per iniziare a fare le masche. Perché come fai a fare i complimenti alle femmine se non li fai neanche maschi? Comunque nel senso. No, è un complimenti. Voi se li puoi avere. No, non è essere il bel femmine. Io la pulino, vabbè. Per piacere. Non mi farei mai il nescock blu. Bro. Gringerei. Tu non ho da ogni idea. Eccola che arriva la cazzata. I consigli di gialto. Attenzione. Ecco che arriva. Comunque tu ha una donna le. Devi dire. Gli è un uomo. Madonna. Se no è una donna con la sorpresa. Ad una donna dovete usare la grammatica corretta. Imparate a scrivere. Imparate a scrivere. Imparate a parlare. Imparate a romanzare la vostra vita. Vai a giocare a nascondino bendato in autostrada. Come fai? Cioè se guidi come fai a giocare a nascondino? Contro mano. Io sapevo vai a giocare a mosca cieca in un campo minato. Beh vieni qua in Sardegna appena ti vedo. Non esco bro. No plizza che poi i tuoi genitori frittendono davvero. Te lo immagini tipo all'aeroporto. Non esco bro. Allora io lo dico. Magari non lo farei mai. Spero che non lo farei mai. Tipo. Hai presente quando va. Perché io non so la tua faccia. Prima mi dovrei mandare un selfie. Mostrare anche io a dove è magari. Tipo agli aeroporti o comunque anche in treno mettono i cartelloni con il nome e cose. Ecco invece di mettere quello mettere io con io Gesù. Tennello così. Io mi sono immaginato Cesare che lo faceva. E io che morivo. Se lo fai mi tocca sposarti quindi attento. Cesare mi so che sarebbe fare la sua mistress però. C'è di meglio come saltare dentro i tombini. Ok. Ok. Mamma mia. Eh il sono. Qualcuno fa il flessione. Qualcuno fa stretching. Io non ho così. Ripeto ho fame. Ripeto. Vai a mangiare. Non sei neanche al computer. Quindi puoi andare. Ma no. Ora ho messo sul computer. Non posso levare la live. Dai. Sette minuti. Allora lei o sappi che io sono quel tipo che in pubblico urla orgasmi per mettere gente in cui sto. Sei davvero capace di scocke bro appena ti vedo. Io riderei un sacco. Io sono ultimamente studentato di tipo di persona che. Allora vi raccontro questo aneddoto. Ero in piazza Duomo. In bici quelle noleggiate. E in piazza gridavo. Bestemmiavo. A cazzo di cane. Mia amici che cringiavano. Che erano tipo. Oh mio dio. Cazzo stavo facendo. E poi ho scoperto che bestemmia in pubblico è illegale. Già. Fuck. Non so perché mi immagino gasto tipo il tizzo dei soliti idioti. Omosessuali. Ma ora con questa parola. Omosessuale. Non mi sono mai piaciuti i soliti idioti. Però quella era una delle scene che ripeto di continua. Non mi faccio uno schiantare. Eh non era come morire. Ero nel periodo odio tutto il mondo. Quindi le cose leggermente stupere mi stavano sul cazzo. Vabbè ci sono. Sono un po' incazzato dentro. Che è successo? Rio. Un attimo sono sciomitato. Rio. Dove abiti te? Dove abiti? Dove abiti? Che regione? Che vengo a scroccare anche da te. Eh così mi sono quasi preso due vacanze. Abruzzo. Dove è Abruzzo? Abruzzo. Abruzzo. Cosa c'è di particolare? Se vuoi sovrarmi. No. Non è che magari i miei ospiti mi facciano una vacanza. Io con la mia simpatia. Che triste. Anche i gasti. Sono minorenne. Anche i gasti. Minorenne l'ha accettato. C'è pure la piscina. bello. Rio vengo anch'io a trovare. Guarda ti porto anche donne. C'è. Cosa vuoi? Ma non posso minorenne. Ma che cazzo gliene frega la legge a nessuno. Ma me ne frega me. La morema. Ma bene. Un giorno moriremo tutti e non ci ricorderemo di nulla. Molte sì. Madò Leo appena viene andiamo al mare. Flexiamo l'addominale spaventato. Sì. Sì. Vabbè ci provate tra voi due. Ma no. Ma ci provate tra voi due. No. Ma signora. No. È diventato una cringe questa cosa. Facciamo una cosa a tre. Ma. Cioè sì. Faccio la nave a scuola per tutti. Esatto. Dai. Dai. Ma certo. C'è una specie di villa. Guarda se. Se ti so abbastanza simpatico e vuoi ospitarmi io. Io prendo. Parto. Vengo. La cosa che mi interessa di più sono i cibi tipici. Vedi se mi porto a mangiare cose particolari. Mi disse. Io ho pensato. Perché ho letto spicy. Poi ero pensato. Ho pensato a Gaster e io che flexiamo gli addominali. Poi nel bagno di casa di Gaster. Che facevano belli questi addominali. Io non lo so. Però questa cosa. Super game è passata per la testa. Tipo. E ho iniziato a ridere. Se smetti di fare la testa. Sta di Carlo Cracco con Messi. Non lo faccio a testa di Carlo Cracco. Che punti. No se c'è qualcosa. 50%. Si fanno gli arrosticini. 50%. Bene. Bene. Allora. A me basta che mi dice esattamente cosa ti dà fastidio. Io ti posso spiegare. Perché la faccio e posso anche dirti. Ok no smetto di farla. Con Emma ho. Ho smesso di fare una cosa. E gli dà fastidio. Dopo che me l'ha detto. No. Che gas. Non ti aspetto più. No. Dai. Non vuoi toccare. Non vuoi che ci tocchiamo i muscoli a vicenda. Così facciamo. Ma perché sta cosa. Perché. Ultimamente. Sta uscendo un intai. E' omosessuale. Che non ho aperto. Non ho guardato neanche. Però ci sono le preview. Che è solo un'immagine. E quindi a me ormai sono. Nelamente in quello. Di cui uno è esattamente di colore. E un altro è bianco. Io ho pensato a te. Sei un po' come. Sei un po' come me in live. Infatti. Mi auto odio. Ma siamo troppo femministi. Ti dà fastidio il fatto di essere femministi. Io penso sia una. Una cosa giusta da fare. Bella Leo. Sto andando incinta. No fermo. Mi dissocio. Io. Volevo. Non stavo molestando verbalmente. Gastel. No. Assolutamente. Ma anche di colore vabbè. Un po' leggermente. Caffè e latte. Sai. Se non mi mandi neanche una foto. Come faccio a sapere come sei? Se poi ti vedo là vivo e non mi piaci. Ma neanche. C'è già gli arabi non è che siano scurissimi. Se poi sono per metà. Dai. Ma dammi la foto. Dammi la foto. Cosa volevo dire? Volevo dire qualcosa. Non mi ricordo più. Ah. Comunque ti stai già facendo ospitare da due minorenni. Io non vorrei dire. Mi dà bene a quanto me ne frego. Comunque se vuoi vedere la mia casa tra lì con privato. Tanto non ci puoi arrivare. Mi viene indirizzo in prima. Che cazzo potevano ci vogliare? Le guardie e i cani incazzati. No io non stavo spessando. Tipo Gaster era bello spessato. La bronzatura da venditore di braccialetti. No. No magari guardate. Io non so com'è il tuo viso. Non so neanche Cesare. Perché Cesare comunque non ha mandato nulla. Io abito a Burgos a Lorenzo. Provincia di Firenze. Toscana. Come disse Padre Pio. Cazzo in chat. E premo in via. È molto bella questa. Iron Maider 95. Abbiamo avuto tutti la cena. Mi spiace che non c'è l'alert. Anzi faccio così. Perché prima mi hanno buttato. Ciao. Quindi ecco è arrivato. Buongiorno. Eccolo lì. Ok non so dove sta. Mugello. L'autodromo del Mugello lo sai. Non è Gesù è il cugino di Gesù. Esattamente. Brava. Brava. Brava Maria. Eh? Cosa? A me. Ma non è a me. Ma vuoi botte. È io che mi scrivo in privato? Vediamo. Perché non mi fa col dolci? Il MAPS. Ma non in live. Io. Maria la fumo. No. Noi ci dissociamo. Non si fanno queste cose. E poi. Non si fanno. Tu tu tu. Ecco. Tre piani. No non credo sia tutto tu. Ah oggi ho trovato un post. Cos'è che ce l'ho scritto? Ah ecco era tipo la foto di un ragazzo Con un cartellone E ce l'ho scritto Anche Gesù aveva due papà E poi ho pensato Cazzo ed è nato da un utero in affitto E l'ho condivisa scrivendo Allora vediamo quanto mi ci vuole Ad arrivare Cosa ne pensate Della musica metal Che ce ne vorrebbe molta di più Che ce ne vorrebbe di più Che piace a me Vabbè sti cazzo È del 2012 Mi fa piacere Mi sento apprezzato Poi quando diventeranno 5000 A stalkerarmi diventerà un po' inquietante Però fino ad allora Telegram aspetta Io volevo Ecco Iron Sono ignorante No però fai il serio O i miei genitori mi ammazzano Ma perché ti sei No se mi ospiti davvero Io sono la persona più buona al mondo Se mi sono l'ospiti viene lì con il cartellone Fottiti Come ti chiami Maria? Mi chiamo Giulia I'm Giulia Io mi chiamo Leonardo Piacere Ok grazie per Non ce ne frega niente Pareità dei sessi Lo chiedono a te Me lo chiedono anche a me Se lo chiedono solo a me Allora ti bullizziamo Perché non li conosco Mi spiace Io vado giù di Mary Manson Black Sabbath A CDC Epic metal La roba là Ora ti invio quella canzone Che è fantastica Che ora vi stavo ascoltando prima Giulia Tra parentesi Me la invio a tutti In realtà Io non mi chiamo Sono gli altri Eh vabbè Se fossi io padrone di casa Sì Anche per due giorni Ma visto che sto corone Mio padre Iper pretettivo Non vorrebbe mai Eh in effetti Non è un gran periodo Per fare le vacanze Ragazzi Oggi sentivo che sono Tipo raddoppiati I contagi Nel giro lì un giorno Stanno riomentando Da Grazie un tecchere Avete? No Noi non le facciamo Queste cose Iron Whatsapp No Noi ci dissociamo Da queste cose No Non si fanno No Non si fanno Dunque no Mi sa che sei mutata O non stai parlando No no ok Stai facendo solo versi Che cazzo stavi facendo Pezza Pezza di merda Splick notes Leo Mi piace No Fantastico Perché è taccio Che crudo Ah non è che mi schifo A me il cotto Invece mi disgusto un po' Meglio il tecchere Pesca Pesca Ha cambiato Ha cambiato sesso Io sono di origine toscana Vivo in Piemonte Ho detto femminile davvero Giulia se sei di Milano non mi parlare più No ma non sono di Milano Non ho neanche parenti a Milano Mi fa anche schifo Milano Mi ci trovo male Piemonte Proprio è brutta No Ah è live in Piemonte Io abito a Novara Ma pensate Iron io sono di Biella Vedete Cinque minuti di treno ci vediamo Praticamente Ah vabbè cinque minuti no però Ok ok sei salvo Grazie Rio Avevo paura Della tua disapprovazione Ero proprio Terrorizzato Comunque Rio la foto della tua casa era tipo del 2012 Quindi era tipo ok Ma vedo se c'è una foto della piscina Ma non l'avevi già inviata Non l'avevi già inviata di te in piscina Che era una piscina montabile se non mi ricordo male Leo ma come è che tutti quelli che ci seguono sono pieni di soldi E noi due stronzi siamo nella merda Fate un pa' di donazioni Brute persone Ah io c'ho la vila Io in vacanza qua In vacanza là Non uno strozzo che fa le donazioni Vergognato E secondo te perché vado a scroccare Io sono povero come la merda Bravo Bravo fra Ti capisco E anche te sotto la soglia di povertà Faccio il giardiniere Spende tutti in casa A me va bene anche uno Mi chiamo Davide Buongiorno Davide Buonasera Davide Guarda ecco il karma Mi ha spaventato il karma Ricordo che ti fa un pugno sul tavolo Quattro dog alle tre a posto Minchia quattro Sento un po' meglio Perché Se continui così tra un mesetto rotoli Perché due dalla bocca e due dal di dietro Dato che ci sei Mi sento un po' meglio Se vi faccio rosicare mio padre Adesso vi faccio rosicare mio padre ha una ditta E quello che viene pagato di meno Prende mila e se porco Oddio Gas mi trasferisco Adesso vuole una buona lavoratrice Meglio kebab o il mcdonald kebab Gasser che ne dici se ci fidanziamo? Può dire che però il mcdonald c'è un po' più di scelta Il kebab è quello egiziano Il kebab egiziano è 30 mila miliardi di volte migliore Non capisci un kebab turco rigorosamente Quello fatto al forno Col pane fatto al forno Con la carne marinata nel Porco Dietro casa mia ci sta una scuola Abbandonata Palle mi dà fastidio Bello Puoi organizzare i party Eh no ci disse ciao Mi dà fastidio Perché ti dà fastidio Muttala giù Distrugge Il lavoro di mio padre non va bene per te Fai il carpentiere Capirai lavoro in maneggio Non è che mi spaventa Ok ci sta ma no Non è vero se diciamo no a mon Eh no no Poi facciamo di tutto Tipo C'era un ente Che ho visto solo un'immagine Tipo Eh No Sì Da cosa l'hai capito? Dalle fedi? Perché? Sì Per ti hanno dimostrato scusate Che sono già sposato Che cazzo Sì Tra l'altro io dimostro anche meno Me ne danno molti meno di quelli che ho Eh appunto io sembro più grande Sarebbe che si sta sposando Tipo a 24 anni Però Sì no io C'è Eh Non capisco Però son felice per lui Ma di che anno siete? Io Io 99 Io non lo dico perché mi vergogno A 27 anni Fatti i calcoli Andate sul tgcom 24 Dai tgcom Io non ci sono sul tgcom Eh non ci sei mai voluta entrare No perché tanto poi non me lo cago No fai bene Dice sono solo perché è mio Sì l'avevi già mandato una foto di questo Sì un bel piscinone Così c'è anche un amico che ce l'ha E anche qui c'è il villone Però non è ricco Sì c'è una bella piscina Tutta circoncisa da una siepe Gatti tutta la vita Qua ne abbiamo 4 E un cane Però gatti uno è mio Gatti Zaltarius è del 98? No no aspettate mi son preso la cosa Zaltarius è del 98 No Zaltarius è del 94 Ah ok mi ero triggerato Ho detto no aspettate Wait a moment Perché perché sapevo che c'aveva 25 anni Ci sta facendo lui il confessionale a noi Gusti gelato perfetti Stracciatella Viola Menta Nocciola Limone 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 Gatti Gatti o cani Entrambi Però forse cani è meglio Sì però porco dio Non posso farmi il bagno Perché non posso farti il bagno Non l'ho capito Non flexate la piscina su telegram Per favore Se non devo flexare No Madonna Che non sono preferite in assoluto Cazzo questa è difficile Preferite in assoluto Non lo so C'è ne sono tante che mi piacciono Probabilmente qualcuna di Serl Di Che non Qualcuna di Serl Se mi dicessi il tuo Il tuo Autore musicale preferito Direi Serl Se mi dicessi Il tuo Tuo Boyband preferita Mi sono riconosciuta di più Che ho scoperto Molto recentemente Tra l'altro La cantante si chiama Giulia E si intitola Niezche Come? Niezche Di Giulia Modino E tipo Parla di me Limone Cocco Pistacchio I Bisticchio U Bisticchio Mi fa schifo Poi C'ho L'ottite all'orecchio Ah brutto Rio Formaggio preferito Pecorino romano La pecorino Ah no scusate ho sbagliato Aspetta C'era un video di uno Tipo un italiano Che faceva Tipo cose di cucina In America Ah si l'ho visto Fantastico Pecorino Is doggy style Colore preferito Viola Pecorino Is Doggy style Woof 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 style Rispondi Rispondi Coroio preferito verde Di che segno siete Ariete Formaggio non lo so Non mi fanno impazzire i formaggi Però considera Li mangi se mai Marmellate Verde Allora Viola Colore preferito Di che segno siete Io gemelli Tu cosa hai detto Io ariete Però fattualmente Sono vergine Quanto è bello Sto te scherzo Non c'è vostro Andate da ariete Gli ariete Sono dei grandissimi Cagacacazzi Tu non sei mai cagacazzo Eh io ero Cagacazzo Poi mi hanno traumatizzato A vita E sono dovuto cambiare Come persona Ah ok ok Quindi è tipo Acqua preferita Acqua di rubinetto Ma in Toscana Non c'è un robinetto C'è il filtro No Mi ne sbatto il cazzo Ti vengono i calcoli Ma che porra Ma che cazzo Mi le frega Boh Acqua di sorgente Ho c'è il culo Che vivo sotto le montagne Quindi possiamo dire così Ma che ti ammetti Perché il Poi io so a Borgo Quindi è Entrai in un canale Telegram Parliamo con altre persone Vettù Entra però Parliamo Siamo io e Un po' Un po' cringe Un po' cringe Come deve essere La vostra anima Germella ideale Questo ci sta facendo Confessionale a noi Leo Vabbè È la penultima live Che facciamo insieme Quindi Quindi ci può stare Ci può stare Sono le tre Un quarto Però va bene Ok Facciamo qualche altra domanda Fino e mezzo Poi basta Minchia Una domanda complicata Vai Leo Rispondite Una persona in cui Sono in sintonia Con cui riesco a essere Un'amica Con cui scopare Ma Molto semplicemente Ma è perché Un'amica Per essere Una migliore amica Con cui scopi Perché una migliore amica Deve essere una persona Con cui ti trovi bene Blah 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 E cui appunto Arrivai oltre Al Al contatto mentale Ma anche il contatto fisico Buonasera Buongiorno Che c'è Per essere Qualcuno che mi faccia Sentire Al sicuro E che mi ispiri Fiducia Qualcuno che riesca A conquistare La mia fiducia Perché cinque membri Ma vedi che sta roba Non lo so Così Ma cazzo Qualcuno che conquisti La tua fiducia Ciao buonasera Perché arrivano tutti a quest'ora Noi dovremmo staccare Arrivano tutti Sì no Infatti io sono Ma dove Allora va bene Buongiorno Sono entrato Dica Il mccati viene Ho lo stesso razzo Che razzo Guarda Ah questo qui Cosa è Cavalli Bello Cosa stanno dicendo sti Entra nel gruppo Sono Ci sono Giulia Leo La ultra Luigi Sono Fittissimo Tipo Sei l'orvo Sai Il potere La virginità Vieni a me Oh perché l'ultimo No non è l'ultimo Lai Ho solo un impegno Mi era trovato Una persona Dall'8 A 14 E quindi Non ci sono Quei giorni lì Poi non ci sarò Da settembre Perché riprendo A lavorare E poi io Non so Se tipo Vado in vacanza Quindi Ci sono Anch'io Il problema Secondo me È lo stesso Vuoi vedere La razza No Sono Non so Se riesco A inquadrarlo Sto inquadrando Perché io Ce la live Un sacco In ritardo Siete Due ricchi Di merda Chi sono Ricchi Di merda Non sento più Abbiamo un po' di dubbi Sì ti si sente Ma perché mi state Facendo Siamo tuoi fan Ok Che cazzo state scrivendo Perché vi scurri E l'altro Con una chiesa Vabbè Lui c'ha Il green screen E questo è Un tappeto Non è una razza E comunque Sono a casa Di mia mamma Siamo due ricchi Di merda Perché a quasi 30 anni Non posso Permettermi di vivere Per conto mio Quindi Della ricca di merda La vedo un po' Mi fa molto ridere Ma è piccolino No È un tappeto È un tappeto Questa è la mia mamma È un fottuto tappeto Non è Ma perché mi scrivete Qui sopra Non potete chiedermi Perché sei in chiesa Perché Per la somiglianza Poi state mandando Video strani Ma perché Io non capisco Perché mi avete fatto In quel canale Sì io Boh Perché tanto Non c'è modo Per farmi bannare Quindi ho detto Vabbè Vediamo che cazzo voglio Così Sì la curiosità Vabbè Ma scrivete in diver Sì no Perché io Assomiglio a Gesù Quindi è Il meme del Gesù Cristo E ho tutte le cose A tema Gesù Cristo E io sono il cugino Di Gesù Cristo Ecco il motivo Di qua Tipo Intendi Credo in Dio No non credo in Dio Spero nella rincarnazione Non credo con nessuno Perché c'è Sta fissa con la razza Non ce n'è cani Sul tappeto Comunque Siamo per chiudere la live Quindi fate domande interessanti Sennò vi sprecherete questo Come vi chiamate su Instagram Io non ho Instagram Io mi chiamo Leonardo E altre cose Quindi se sei con Giulio Mi raccomando Mettete il follow Perché almeno vi beccate altre live Molto simpatiche Facciamo cose interessanti Principalmente chiacchieriamo Facciamo un confessionale In cui prendiamo uno di voi Dalla chat Lo portiamo su Discord E facciamo un confessionale Che ora cambierà un po' tutto Dato che Giulio ci sarà un'altra live Quindi faremo qualcosa di speciale E poi Posso mandare una foto del mio E' uguale giuro Mandamolo La sua parola la manca Però se vuoi mandarla sul Discord Scrivi il punto esclamativo Discord E mandi la foto Anche se il tema è diverso Ma perché state scrivendo questo Perché io non capisco Cosa ne pensate dell'addio In che senso? Se ci dà fastidio dire addio Beh penso che a nessuno faccia piacere E' esserci io nel confessionale Volentieri Poi te lo facciamo Abbiamo un volontario per venerdì Del tipo che dovevamo fare una cosa Se ce ne sono altri Ecco Se ce ne sono altri Gli puoi far fare il gioco delle palline Primo che arriva tra quelli Ah ok ok Ho capito E facciamo il gioco delle palline Facciamo il gioco delle biglie Un secondo Fui cosa state facendo? Ma c'è anche pizza Qui dentro Addio nel senso Pizza vai Salutarsi definitivamente Mi pende se è una persona Che ti sta sui coglioni E' una persona che ti sta simpatica Tristezza Ma che cazzo Io sono famoso Beato te Beato te Io vorrei Scrivete Davide Bazzichetto Su Google Dai cerchiamo Dimmi te cosa esce Perché io ho il cellulare E io faccio con una F***a bestia E' il campione mondiale Di record agricoli Ok Va bene Record agricoli Ok Ma non funziona Discord Come non funziona? Scrivi il punto Esclamativo Discord Qua nel live Poi clicchi Cosa? Se sei sul cellulare Clicca Poi Clicchi link Che fai tre pallini In alto E dovrebbe essere Tipo Apri nel browser E anche a me Da problemi Oppure ti copri in colla Non le facciamo più Queste domande Mi spiace Suona anche il piano E io suonavo anni fa Ma che cazzo E ne ho Un pianoforte elettronico Pianoforte elettrico Non ricordo Ma si dice Elettrico elettronico Pagato una bellezza Di 400 euro Ed è lì che fa La polvere Ma un giorno Lo prenderò Sei Klaus Di Umbrella Chi è Klaus Di Umbrella Company Era il pazzo Klaus Oh mio dio Ho visto tipo Un paio di episodi Io non ho visto Io non guardo serie Mi spiace L'unico personaggio Interessante Era il pazzo Ma per il resto È una palla Come Tama Come Lugo Ioni Ma che cazzo State scrivendo In sto gruppo Ecco A proposito Leo Occhio ad aprire Le cose di Youtube Non farle vedere In live Se magari c'è Il copyright Sì 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 Ah è lui che suona Io che Il pianoforte Fammi vedere In live Vedere anche Il pianoforte Non sapevo che dove Usare Imparare il pianoforte Ah ma quasi Qualsiasi strumento Mi piace Sempre Fa sempre Fiego di Rios So suonare il fiasco Andato a farla vedere Sei andato a farlo Hai mandato Ho mandato La foto su Discord Mi ci guardi Dopo il video Sei il mio tecnico Paticamente Dove essere Te la mia spalla Cosa è successo? Non si sente un cazzo Devo mettere il volume È uno che Sono nel piano Un attimo Perché Non si sente un cazzo Comunque Ovviamente Te non lo senti Perché Ehi No Vabbè Dopo me lo vado A vedere Per cazzo Mio Giratemi Il link Sul disco Che lo giro Io Madonna Sono proprio Chi è? Sei il mio schiavetto Oh no Ovviamente Mai lo schiavo giusto Però Ah Fai poi Le scrivi anche Ah Figo La smetti La smetti Gaster Sei un pezzo di merda Venuto a tutti La scena Pizza E Caloshin Supremo Eh Caloshin Supremo Ok Basta Così Scopriamo Guarda Volentieri Vetto Vemmo tutti Trener Rimorchiati Ammazzi È un casino Piano digitale Ah Bello Minchia Casio Per fortuna So che sono sarcastici So stare piangendo In questo momento Cos'è che ha mandato E mi ha mandato il colone In macca ma lei ha mandato su disco la foto del top Mi fa troppo figo di lavare Dove l'avrei mandato Ma io ho scritto Oh cazzo ho scritto le cose qui sopra sono scemo Ottimo Ragazzi però calmatevi ho capito che Leo è molto carino però calmatevi Grazie 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 Ah sì Tele È la madonna Quante cazzo Vi ti è scritto Ok Come vi chiamate Su Twitch Edita Dai Cosa no È la madonna Serve un record effettivamente Andrei in giro vantando Eh la mia prima volta è stata a nove Poi però non dico che erano tutti i ragazzi Quindi Oh ma dai che figo che sei Eh ma Non banniamo la gente a minchia Perché scusa? No non banniamo Cerchiamo di capire a che cazzo gli passa per la testa Eh della gente Perché la testa di cazzo La prima domanda è del vecchio confessionale Ma te sei che ti fai a giorno? Eh Una Se sono in periodo di da una al giorno Se no una ogni due Sta sperando di scandalizzarci Ma non sa cos'era il vecchio confessionale Vai sul mio canale YouTube Vatti a vedere le prime live E mandargli un po' di roba gorda A bloccargli la crescita Isalta sei perfido 5-6 almeno Fallo fallo traumatizzali Ma perché te non hai visto cosa cazzo stavo mandando sti bestie di satana? Stanno mandando di peggio? No non lo so So solo che sono immagini sfocate E non voglio sapere cosa sono E non voglio sapere Ma secondo me si entra Salta di disfattuto Guarda te li fecchiamo in culo Esatto lei Come si chiama? Eh Su quel sito Se c'è chi Edited Staccato in tight Trovi i miei video Non sto scherzando Uno c'ha anche mezzo milione Diviso Non nel senso che fa video lui Devi stare Sono i miei Li faccio io i video Sì però non nel senso che c'è lui dentro ai video Ma perché devi rovinare i soldi Però sono i miei video Mezzo milione Io non so a quanto sono arrivati con quel video Non faccio in tempo Bannare i messaggi È un po' veloce Bra Lei è davvero bannato? Oh No Quello messaggio Non lo aspettava altri in realtà La roba è più pisante Non aveva fatto domande interessanti Molto efficace Vai vai Zalta Scandalizza Che tra l'altro C'è insieme No io in realtà Non mi bandano Se la scrive uno in chat Giusto per dire Però Cambiamo streamer Dai Ciao Addio A me il Gore Non fa effetto Le ultime parole famose Fa effetto bello A me fa schifo Ma non è che mi traumatizza Ho visto cose peggiori Eh 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 Infatti mi è ingiustamente Scarcella Scammato Benuto tutti la cena Siamo un gruppo Principalmente Gore Giovanni Ok dove ti Inscu Vai sul nostro canale Eh vabbè Ma guarda Io dormo bene Anche senza andare Sul vostro canale Cazzo Non ho fatto in tempo A leggere Il numero Un casino Non mi sta in casa Per quello che Uff Mi diverte Uff Mi diverte a fare C'è un problema Due minuti Ha messo insieme Infatti se Inzalta Si è preso Ma No È come il vino Più maturano Più diventano buoni Con la stupidità Intendo Potevi farle tranquillo Sì sì No tanto Noi leggiamo tutto Poi sono lontanissimo E quindi leggo male Sono così lontanissimo Cosa vi piace Nella vita Cosa vi piace Nella vita Andare a cavallo Sempre di tu Videogiocare Scrivere Ascoltare musica Allenarmi Segarmi Giocare Possiamo fare L'elenco lungo Penso La cosa che piace La cosa che mi piace Di più Non ho idea Allora Andare a cavallo Giocare I videogames Leggere Andare in montagna I gatti Il sushi Leggere manga Leggere manga È una cosa Che mi piace Un sacco Ce la faccio A non leggere L'unica cosa Di cuore Che hanno visto Secondo me Quando sono Caduto Io mi sono fatto Una cicatrice Cadendo Dalla bici Ero dietro Ero sul Sellino Mio amico Era davanti E mi sono lanciato Indietro Perché stavo Scevolando Ho appoggiato Il braccio Sulla ruota E mi sono fatto Una cicatrice L'unica cicatrice Io È meglio Se sto zitto Sì vabbè Te sei Te sei Da rottamare Il vostro cibo Preferito In assoluto Il ragù Napoletano Che è Pomerola Basilico E pezzi di muscolo Carne a muscolo Intero La bistecca La fiorina Wow Quella pianina Immagino Sì Sì Davvero Il tuo piatto Preferito Ma Tana E qua non si trova Minchia Se no Il tagliotti Mi faccio prendere Paura Per faura La vostra pizza Preferita Pizza Ananas No scherzo Cambia Cambia È buona La pizza Ananas Non te lo sai dire Nel senso Che alcuni La chiamano Napoletana Alcuni La chiamano Romana Comunque Diciamo La margherita Con Asciughe Capperi Se no La pizza Con la carbonara Quella pure È una bestia Di satana Che ti impalla L'organismo Per tre mesi No però Mi cambia La pizza Non c'è Una preferita Però in realtà Il cibo preferito È il sushi Cioccolato preferito Al latte Perché non ne ho provati Diversi Se no Esattamente Per esempio La cicatrice Quando cadi dalla bici E poi ci prendi Più botte Dei tuoi Perché ti avevano detto Di andare piano Ecco Loro avranno Questo Cioccolato preferito Cioccolato all'A Non il cioccolato bianco È troppo dolce All'A Però ne mangio Puchissimo Cioccolato Perché mi stufa Subit L'inizio La live L'abbiamo passata A parlare di cose alcoliche Va malissimo Sì ma Nell'occasione giusta Quindi raramente Tipo se vado In qualche pub O in discoteca Adesso vabbè Mi avete visto Bere qualche birra In live Vabbè Quello non è bere No ma non è che bere In casa La birra Non è altro Sì no Nel senso che C'è Un'occasione Per una coincidenza Pura Di solito Non tengo Alcoli No Solo quando c'è L'uscita Così Mia madre Dato che è diventata Astemia Perché non vuole Più bere E gli dà fastidio Con l'acqua In casa Quindi Mi ha infamato un po' Quando ho riportato La bottiglia In vodka In casa Perché cosa ci fa Della vodka In casa Il mio Non so se si può Nominare Zalta Si può nominare Si possono nominare I siti Comunque il mio E non sto scherzando Pesto verde O pesto La siciliana Ci possono dire Ok Edita Dentai Il mio sito preferito Ma il pesto verde Non mi piace A alcuni punti Sono Il pesto verde Mi stucca un sacco Il siciliano È molto più buono Invece Mi piace molto di più Comunque se c'è Edita Dentai Edita Edita Dentai Trovi un Patreon Un sito E su Pornab Un sacco di cose La nostra squadra preferita Non ti focaccio Piuttosto molto Aspetta 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 Ho la risposta qua La fiorentina Ok Il vostro film Preferito in assoluto Non ne ho Perché non guardo Così tanti film Cioè Dei film che dico Sono film Preferito in assoluto Oddio Ce ne sono tanti Boh Il primo che mi viene in mente È al di là dei sogni Però è tipo Troppo rosa È una bella domanda Conoci qualcuno Volò sul nido Del cuculo Il cuculo L'ho visto un botto Il filmone Videogioco in assoluto Preferito Ever The Legend of Zelda Tutti A parte quelli Per console portatile Tutti quelli Per console fissa Eeeh C'era un tatuaggio Su The Legend of Zelda Call of Duty Conosci Call of Duty Call of Duty Ci ho passato Un po' tutti Ragazzi avete Bannato tutti Due e basta Ne abbiamo bannati La cosa che odiate di più Che poi io sono ancora dentro Posso esci? La gente che non fa altro che piangersi addosso e non fa un cazzo per cambiare la propria condizione L'odio nel mondo Cioè questo è come Miss Italia che dice vogliere pagare il mondo Un po' di fantasia C'è ancora dentro Non sono uscito Eeeh Il fatto È che L'inizio della live Era un po' così Ho realizzato che Vivere una vita Di odio Non mi porterà a nulla Quindi proprio Voglio Voglio proprio Immergermi nel pacifismo Proprio a 100% Voglio raggiungere l'utene in questa vita Io sono contro tutti gli estremismi Brava Perché fanno sempre schifo gli estremismi Esattamente Che da una parte che dall'altra Il comunismo potrebbe funzionare Esattamente Però appunto Se finisce nella dittatura Capisci che è un cazzo tutt'uno Però contro gli omosessuali Però Tutta la vita Ho anche un amico omosessuale E non c'è neanche un ma Io ci sono cresciuta in mezzo Poi ognuno farà il cazzo che gli pare Esattamente Sono un gruppo di gore Bello Grazie per avermi portato queste cose Ci hai portato anche Iron Iron ci sta piacendo No Iron è venuto Latte schermato o intero? Mi cago sotto Quindi latte Se sente intero Grumetti Viene il vomito Intero non ci sono grumetti Ma dove cazzo Non hai mai Sì Ci fanno grumetti No Comunque Latte Adatta conservazione Quindi quello Sareilizzato senza lattosio O quello senza lattosio Direttamente Anche i vegani Sono estremisti Beh no Gas Ci sono i vegani E i vegani Quelli che rompono Il cazzo No No Zalta Paco e amore Quindi no Non c'è bisogno Di accanirti Sopra di loro Quante ore dormite A sera Allora se devo lavorare Minimo 8 Perché se no Sto male Se no Boh Dipende Se non c'ho un cazzo Da fare Anche una diecina Però tendo a dormire Del mattino Barra pomeriggio Se non ho un cazzo Da fare Subito su un nottambulismo A me mi capita Ultimamente sto facendo Le 5 6 di notte Mi sveglio alle 2 Quindi fatti Calcoli Però sulle 8 ore Sto bene Poi se dormo di più Poi ci sto male Voi state Voi state già Pensate Boh Mi piacevano le domande Cioè uno che ci fa Che mi fa le domande Mi fa sentire figo Quindi sono un po' Sì Vite Oltre la nostra Se intendi alieni È sicuro al 100% Se intendi Poi giuro Se ti deve andare Tranquilla Vai Domani avete Da fare Dopodomani Dopodomani rifacciamo Alla Comunque Domani Ho fatto affare Osco con gli amici Però Fare una dormitina Nel pomeriggio Tutto al più Fare una cosa alle 10 Ma Se no vi lascio In realtà Devo effettivamente Un mio amico Arriva a luna e un quarto Io ho detto Io a quell'ora dormo Mi ha fatto Va bene E poi ho fatto Quando finisco di pranzare Ti richiamo Quindi idealmente No Però comunque Non riuscirei a Adormentarmi subito Perché Ho gli orari sminchiati Adesso dovete andare Andate Sono state in live Fino alle 5 E vi faccio le domande Allora fino alle 5 No Però ci rivediamo Dopodomani in live Se vuoi ritornare Per me è uguale No io Devo anche andare a pisciare Da Un'ora e mezzo Puoi anche andare Cristo Ogni tanto Mi si suicida Al cellulare No Perché non Voglio esserci Poi riesco a resistere Quindi Sono tipo Va bene Sai che ti vengono in calma No L'ha messo in follo Non mi Non hai fatto Menti in follo No Giulia Devo rimanere Fino alla fine Così Per principio Devo morire Mi sa Allora Non morire Iron made Grazie per l'osso Eh ma io Dopodomani Devo morire Mi sa Ah beh È bello Tra cui Facciamo live Il lunedì No aspetta Mi sto confondendo Il Giovedì Il Sabato Domenica e lunedì Da mezzanotte Alle 3 Mi hai detto Una musia a fin di bene A voglia Non credo Non lo so Sì 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 Però te do Non dirle In realtà Te do Essere sincero O non dire nulla Preferisco Non dire nulla Evitare discorsi Che dire bugie Non parlo di una cosa Perché non voglio dire bugie Sennò sarei diretta Soprattutto a fin del mio bene Avete mai scorgiato Un posto pubblico Beh sono Ci sono andato molto spesso a scuola Tutte quelle scuregge Senziose Ma le cose più belle Sono i gran rotti Soprattutto se siete una ragazza Vabbè i rotti ci stanno E poi guardare male Il fidanzato a fianco E tutti guardano male lui Se dovete farvi un palino Cosa ci mettete dentro Ah io sono pigra Quindi ci Nutella Comunque Si è fatta una certa Quindi io Vi ripropongo La prossima live Che sarà Fra due giorni Quindi Sabato A mezzanotte E quindi Sarà il giorno Ora ho cambiato tutto Ho cambiato la grafica Non so se Se l'hai visto Giulia Ma ora è tipo Sì Da mezzanotte Fino alle tre Perché mi stavo triggerando Anch'io Ah ok Quindi Io ringrazio tutti Per i follow Ringrazio La mia Cosa posso dire La mia chubby Spalla Si stava parlando prima Zatta Aveva detto Meglio le chubby Io Meglio le chubby Cosa sono le chubby In carne In carne Sono in carne No Bellissima Curvy ecco Anche chubby Comunque ci sta Però Lascia stare Sono in carne Sono in carne Ma non lo so Non ti ho mai vista Tutta in nera Quindi Un ringrazio Un ringraziamento speciale Per La mia Curvy Giulia La mia curvy spalla Dai che sei un po' Masochista Ti piace Poi Per questo C'è un girone Dell'inferno Per questo Me ne frega un cazzo Se danno gusto Non fare Non fare Complimenti Che se no Sei un simp Non Non prendere in giro Che se no Sei vai all'inferno E vabbè Io non ti ho mai detto Di non fare complimenti A me piacciono Un sacco I complimenti Allora Ci devo mettere un po' Perché io faccio fatica A fare complimenti Non so se sei notato Allora Giulia sei un prosciutto Ok Alla mia spalla Prosciutto No cosa Possiamo La mia spalla Lardo di colonnato Che è Buonissimo È buonissimo Provatelo No Dovrei dormire Invece vengo Per farvi un favore Non ci vengo più Ma Ma Vi immaginate Il giro è estremamente Masefista Che si rompe il polso E Perché È stato molto Sì Ah Che la vedessi Contante Dio del cellulare Che mi casca Si suicida anche il cellulare Come vostra battuta Allora Lo farò oggi E domani E dopo domani Per la conclusione Oggi Dato che si è un po' Chiacchierato della vita Dei cazzi nostri Quindi Ringrazio La mia Simpaticissima E È Molto Sul pezzo Spalla Non so che cazzo Di complimenti Fatti Va benissimo La accettiamo Volevo Io devo Preparare Ma io devo Preparare Ok Mi è venuto il complimento migliore Che solo l'epoca Beh Ringrazio la mia Leonessa Spalla Per Per Essere sempre qui Per fra poco Non esserci più sempre qui Però La ringrazio mille Per la compagnia Ringrazio voi Per esserci state Ringrazio per la compagnia E ringrazio E nella mia vescica Vi manda tutti a cagare Quindi io dico che per questa La live è tutto Noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ciao 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 Simp Simp Sì Vabbè grazie Ciao